Buongiorno a tutte e a tutti, un cordialissimo benvenuto a nome del Centro Teneo per i Diritti Umani Antonio Patisca dell'Università di Padova, della Cattedra Unesco Diritti Umani Democrazia e Pace dell'Università di Padova e del Comitato Promotore della Marcia della Pace Perugia Assisi. Prima di iniziare i lavori di questo seminario di studio di flessione, la cura del mondo oggi e domani, abbiamo deciso di lanciare dall'Università di Padova, da questo Centro per i Diritti Umani, una mobilitazione contro la guerra in Ucraina. Riteniamo che sia una follia portare una guerra in Europa, crediamo che l'Unione Europea debba avere una posizione diversa da quella dell'amministrazione Biden, come avvenne in occasione della guerra preventiva del 2003, quando l'Unione Europea adottò una strategia di sicurezza europea per prendere le distanze da quella che l'amministrazione Bush fece. Riteniamo ancora che dobbiamo sottolineare come l'Unione Europea si è nata sulla base di un progetto di pace, sulla base di un progetto di pace. Questo progetto di pace oggi va difeso e l'Unione Europea lo deve difendere perché nel trattato di Lisbona, quindi nel trattato che regola il funzionamento di questa organizzazione sopranazionale, sta scritto il rispetto del diritto internazionale, la centralità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la risoluzione delle controverse internazionali. L'Ucraina non può che essere un paese cuscinetto tra l'Europa e la Russia, deve essere dichiarato un paese neutrale e qui deve intervenire, bisogna rimettere in gioco, rimettere al centro il ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del Consiglio di Sicurezza che è stata ancora una volta umiliata e messa da parte. Clavio. No, assolutamente niente, direi che hai già detto quello che è necessario. Ieri Papa Francesco ci ha invitato tutti durante l'Angelus a pregare per la pace. Questi sono minuti, ore in cui dobbiamo davvero autenticamente sperare che tutti i responsabili della politica italiana, europea e mondiale lavorino fino in fondo per preservare il bene supremo che abbiamo, la pace. Il bene supremo. Perché con la pace tutto sarà ancora possibile, compresa la soluzione di questa controversia. con la guerra tutto sarà semplicemente perduto. Questo, in questi minuti, forse non ha senso aggiungere tante parole, ha senso compiere un gesto comune. E allora distribuiamo a tutti questo cartello, il cartello così da... Spero che da casa ci sentite o da scuola, dagli uffici dove siete collegati. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, ve lo possiamo mettere in chat assolutamente. mettiamo il pdf a disposizione di ciascuno questo è il momento in cui tirar fuori le bandiere della pace appenderle alle finestre se uno può appendere un lenzuolo bianco un cartello una scritta penso che sono piccoli gesti ma questo è il momento di dimostrare è la volontà della pace che i nostri padri hanno scritto nella costituzione e che cioè ripudiamo la guerra come fosse anche solo ipotizzabile strumento di risoluzione delle controversie internazionali allora penso che possiamo dare inizio al nostro seminario e passo volentieri a a professor marco mascia ringrazio ancora lui e tutti i collaboratori del centro diritti umani dell'università di palo a gabriella salviuro che dirige questo centro e tutti coloro che ci hanno aiutato a ritrovarci qui naturalmente grazie anche e prima di tutto a tutti quelli che hanno accettato a esserci grazie 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 flavio diciamo col dire che quello di non è un convegno non è un luogo non è un luogo dove ci saranno relazioni ma è un momento di riflessione di dibattito che abbiamo voluto che abbiamo pensato diversi mesi fa dopo la marcia della pace perugia subito dopo la marcia della pace perugia sisi del 10 ottobre del 2000 del 2021 quindi è un momento di riflessione siamo qui in tanti tante persone che vengono anche da percorsi diversi viviamo in un momento in cui l'informazione è in grado di darci tantissime notizie eh ma è anche vero che viviamo in un mondo in cui eh l'impegno eh per la cura del mondo il gioco di parole sembra sembra diminuire no mi viene in mente eh no le le grandi manifestazioni che ci furono no nel 2003 contro la guerra preventiva in Iraq che no eh il movimento pacifista mondiale la seconda potenza del mondo eh mi vengono in mente no i forum a Porto Alegre e tutto quello che poi è seguito in quegli anni dove c'era un forte e in un forte coinvolgimento delle persone e delle e delle organizzazioni beh eh siamo qui eh perché e vogliamo questa mattina provare a fare eh un'analisi su quello che sta accadendo e allo stesso tempo poi nel piccio però vorremmo anche provare a eh a individuare delle cose concrete delle cose concrete ehm c'è una consapevolezza da cui siamo da cui siamo partiti ed è eh la consapevolezza che i governi eh nazionali non ce la fanno più non ce la fanno più eh gli stati nazionali no sono stati costitivi diciamo sul principio di sovranità quindi sulla inviolabilità dei confini sulla non incerenza negli affraterni sull'integrità territoriale sulla continua corsa agli armamenti ebbene gli stati nazionali oggi non sono in grado non sono più in grado di garantire benessere economico e sociale cioè quello per il quale sono stati creati no? E e non sono più in grado di garantire benessere economico e sociale ma non sono in grado di stanno dimostrando di non essere in grado di gestire le sfide globali che abbiamo di fronte non sono in grado di assicurare la pace e la sicurezza internazionale quello che sta accadendo in Ucraina lo dimostra insomma è è è un elemento eh dal quale eh dobbiamo eh partire per fare eh una nostra una riflessione direi di più l'evidenza empirica che abbiamo accumulato nel corso del tempo attesta in maniera inequivocabile che il principio no? Un vecchio principio latino se vi space un parabellum molto caro ai governanti di ieri alla scuola realista delle relazioni internazionali non più ammesso in un concesso che abbia mai retto in in passato e eh stendo elemento di riflessione che eh abbiamo voluto porre con il documento che vi abbiamo distribuito eh è che eh spazio della sicurezza da oggi ha superato i confini nazionali ha superato i confini degli stati per diventare planetario eh gli obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti nell'agenda venti trenta ci dicono che la sicurezza è multimediale cioè che la sicurezza è economica società alimentare ambientale oltre che militare e che deve essere che questa sicurezza deve essere funzionale a soddisfacimento bisogni umani eh assunti questi bisogni come esigenze prioritarie rispetto a quelle degli stati allora minacce no? Hanno assunto un carattere globale e e e in presenza di minacce globali noi abbiamo bisogno di risposte che siano globali cioè abbiamo bisogno di un nuovo paradigma della sicurezza con al centro la persona umana abbiamo bisogno di sicurezza umana di human security eh come affermato nel rapporto human security now dobbiamo passare la sicurezza dei confini alla sicurezza della gente dentro e oltre quei confini e infine l'ultima riflessione che che sta alla base del documento che abbiamo elaborato e del seminario di riflessione di oggi riguarda il tema della democrazia no? Perché dobbiamo prenderci cura del mondo perché come la sicurezza anche la democrazia non può più essere rinchiusa dentro i confini nazionali realizzata sul piano internazionale questo è un tema che eh con il movimento per la pace abbiamo lanciato ancora nel mille cento e novanta due con un appello per la democratizzazione e la riforma delle delle Nazioni Unite ed è un appello che poi ha dato anche no? Eh l'impegno di questo movimento con le diverse edizioni dell'ONU dei popoli partite con la marcia della pace del millenovecento del millenovecento e novanta cinque. Eh eh dobbiamo prenderci cura del mondo lo dicevamo prima e ce lo chiedono milioni di persone che in ogni parte del mondo subiscono violazione dei diritti umani. Dobbiamo prenderci cura del mondo perché ce lo il diritto internazionale dei diritti umani che è stato generato dalla carta delle Nazioni Unite dalla dichiarazione universale dei diritti umani. Come diceva Antonio un diritto per la pace e per la vita e come per la sicurezza e per la democrazia anche per i diritti umani lo spazio si è dilatato. Oggi lo spazio costituzionale non è più soltanto quello interno degli stati ma è uno spazio costituzionale planetario essendo nell'era della nazionalizzazione dei diritti umani. E eh bene ovviamente non non partiamo da zero l'abbiamo detto tante volte le esperienze positive sono tantissime queste esperienze vanno valorizzate per renderle sempre più contagiose. Tuttavia ci rendo conto che molte persone molti gruppi hanno smesso di occuparsi del mondo. Sta per scoppiare una nuova guerra in Europa dopo il tre degli anni novanta nell'ex Jugoslavia e ancora una volta l'Europa si trova impreparata. Non sembra che la storia non abbia insegnato niente ma addirittura l'Europa si è piegata eh no alla via della guerra messa in campo dagli aliati americani e dal nato. Bene tutti assunti dobbiamo ripartire per ripensare il nostro lavoro di pace ed è per questo che oggi siamo qui. Per facilitare la discussione abbiamo posto alcuni interrogativi. Qual è il nostro rapporto con il mondo oggi? Perché molte persone hanno smesso di occuparsi del mondo? Cosa sta succedendo? Perché dobbiamo ricominciare a prenderci cura del mondo? Cosa ci succederà? È vero se non cambiamo atteggiamento? Come possiamo essere la cura la cura del mondo? Insomma oggi insieme con voi vogliamo tentare di dare alcune risposte allo stesso tempo anche di mettere in campo iniziare a mettere in campo un programma d'azione per il breve medio e lungo periodo. Flavio Flavio grazie Marco eh per averci accolto per aver introdotto eh questo questo laboratorio eh sono contento che siamo qui anche con un gruppo in presenza molti ci stanno quasi un centinaio di persone eh sono collegate eh via zoom e altre ci seguiranno ci stanno già seguendo via facebook eh nelle varie pagine diciamo che del che che stanno condividendo questo nostro incontro eh quando l'abbiamo pensato abbiamo eh cercato di rispondere al bisogno che sentiamo incalzante di fermarsi e riflettere fermarsi e riflettere una cosa che purtroppo il mondo non ci consente di fare anche stamattina eh siamo stati costretti a stravolgere eh il ritmo del nostro pensiero perché l'attualità l'urgenza eh la drammaticità di queste urgenze insomma ci stanno costringendo a sempre a modificare a tenere il nostro corpo e la nostra mente in tensione eppure la giornata di oggi è una giornata che dovrebbe aiutarci ad allungare e ad allargare il nostro sguardo allungarlo verso il futuro e ad allargarlo fino a raggiungere i confini i confini del mondo e allora davvero dito anche tutte le persone che non avranno la possibilità di parlare oggi di di segnarsi eh sul computer su dei fogli di carta i propri i propri appunti perché quello di oggi è un laboratorio che si apre e non si chiude eh e quindi è un cammino che vogliamo provare a fare eh anch'io naturalmente ringrazio tutti quelli che hanno accettato ma vorrei che il primo grazie più forte più profondo lo provassimo in qualche modo a dedicare a tutte le donne e gli uomini che si stanno ostinatamente continuando a prendersi cura del mondo anche in questo momento storie persone delle quali non c'è spesso traccia la nella comunicazione generale ma che esistono che grazie a loro che noi possiamo dire che c'è ancora qualcuno che si prende cura del mondo eh spesso ce lo domandiamo no anche così con un moto di di ansia e di rabbia no ma chi se ne frega del mondo eh chi se ne sta occupando beh noi sappiamo che ci sono ci sono le persone le organizzazioni i gruppi ci sono e allora siccome noi oggi affronteremo elementi negativi tante preoccupazioni eh io vorrei proporre proprio un atteggiamento l'atteggiamento di chi vuole soltanto generare preoccupazione che è è necessaria una sana preoccupazione ma anche di chi vuole generare fiducia e speranza nella possibilità di cambiare il corso delle cose quindi unire in tenere insieme la preoccupazione ma anche la certezza che ciascuno di noi ha concretamente la possibilità di cambiare qualche cosa all'interno di questo mondo in cui viviamo e lo si sta già facendo ecco prima Marco diceva dobbiamo dare valore visibilità a queste cose non per come dire illuminare una notte buia ma perché queste sono le luci che possono moltiplicare solo attraverso il contagio diciamo delle positività sarà possibilità invertire il trend negativo che percepiamo e ha portato qui a ragionare eh Papa Francesco l'altro giorno nell'intervista che ha fatto che ha fatto a che tempo che fa ha descritto efficacemente le due categorie del del mondo di oggi la prima è quella della guerra seconda e di tutto il resto e dice Papa Francesco non voglio fare il tragico ma è la verità vediamo come si mobilitano le economie eh chiamato subito in casa non la politica ma le economie che oggi dirigono anche molto spesso la politica e la cosa più importante oggi dice è la guerra e non pensava soltanto all'Ucraina non pensava soltanto allo Yemen non pensava soltanto al Medio Oriente o a tante parti dell'Africa pensava alla guerra ideologica alla guerra di poteri e la guerra commerciale alla guerra per andare avanti per mandare avanti anche tante fabbriche di armi seconda considerazione rapidissima abbiamo la percezione che siamo giunti a un punto critico della storia dell'umanità la crisi che stiamo vivendo è una crisi di cura e di responsabilità ce n'è troppo poca di cura e ce n'è troppo poca di responsabilità e questo ci sta accendo il il pericolo il pericolo reale che non è un pericolo sul mondo per il mondo è un pericolo che tocca ciascuno in qualche modo lo scontro tra gli interessi particolari che è anche proprio dei persino dei governi è uno scontro è lo scontro che oggi sta mettendo in discussione tutte le grandi conquiste realizzate dopo la fine della seconda guerra mondiale terzo e ultimo elemento la cura del mondo è la cura di noi stessi soffermo un secondo su questo perché c'è stato un tempo in cui anche quando ero giovane ero ragazzo io in cui occuparsi del mondo voleva dire occuparsi del terzo mondo voleva dire andare a dare un po' di solidarietà un po' di aiuto a chi moriva di fame a chi stava in qualche parte remota no del del nostro continente oggi il fatto che i governi non si stanno prendendo cura del mondo ha un significato concreto che non si sta prendendo cura di noi di noi perché lo vediamo la crisi energetica non vogliamo parlare dell'ucraina parliamo della crisi energetica dei prezzi delle materie prime vogliamo parlare del cambiamento climatico tutte questi questi drammi globali arrivano quotidianamente sulle teste sulle spalle di ciascuno di noi e noi siamo senza protezione i cittadini sono senza protezione non è solo un problema dell'aumento delle disuguaglianze e c'è un problema di aumento della vulnerabilità e della fragilità delle nostre società e anche delle nostre istituzioni del nostro sistema democratico perché è questo che oggi è profondamente minato quindi dobbiamo rimuovere l'idea che prendersi cura del mondo voglia dire prendersi cura degli altri in realtà prendersi cura del mondo vuol dire sicuro di noi stessi perché oramai siamo tutti parte della famiglia umana siamo tutti parte di un'unica famiglia in cui l'interazione l'interconnessione l'inter dipendenza è un dato di realtà non è una filosofia dei buonisti no degli alter mondialisti è un pezzo della realtà e di fronte a questa realtà siamo tutti profondamente impreparati lo ha già detto marco e non mi soffermo c'è un'impreparazione dei governi c'è un'impreparazione culturale delle persone ci sentiamo sfidati terribilmente da queste grandi complessità che inombono e ci sentiamo impotenti e quindi spesso come dire ci sforziamo di non pensarci fino al giorno in cui aumentano a dismisura le bollette elettriche e qualcuno ci viene a dire che bisogna andare a trovare altri 5 miliardi come se questi risolvessero il tema e non c'è nessuna discussione pubblica su come andare a affrontare i problemi alle radici questo aumenta il livello di impreparazione di fragilità e di vulnerabilità ecco perché la cura del mondo deve essere probabilmente lo dovrà diventare un obiettivo quotidiano di tutti tutte le corpe i corpi sociali innanzitutto le persone tutte le forme organizzate dobbiamo come una volta si diceva pensare globalmente agire localmente oggi dobbiamo fare entrambe contemporaneamente non siamo in condizione di farlo ma dobbiamo renderci conto che questo è oramai necessario e questo è oramai dispensabile e allora grazie davvero ancora tutti quelli che hanno deciso di contribuire ecco a questa riflessione raccoglieremo le idee di tutti e cerchiamo insieme ecco di ricostruire una visione comune di questa realtà perché c'è troppa frammentazione troppo spettamente questo ci rende magari lucidi da una parte ma poi incapaci di agire c'è un grande dramma politico il vuoto della politica è sotto gli occhi di tutti lo stiamo pagando in queste in queste ore speriamo di evitare il peggio eh abbiamo bisogno di che cosa possiamo fare ecco ancora una volta grazie ancora a tutte e a tutti voi e la prima persona a cui avevamo proposto di intervenire è a luisi tosolini che è arrivato con qualche difficoltà anche spostandosi abbiamo nel tempo reale di nuovo riscoperto anche queste quotidianità e a luisi abbiamo pensato di usare per tutti quelli che interverranno questo questo microfono abbiamo dieci minuti a testa e cerchiamo di stare no dentro questo tempo grazie ancora grazie grazie a voi intervenire dopo le due introduzioni di professor Mascia e di Flavio Lotti è piuttosto complicato direi che il primo dato è che è bello ritrovarsi in presenza questo credo sia un elemento molto 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 rilevante ehm re reincontrarsi rispetto al tema mi è stato chiesto di ragionare da uno spicchio molto piccolo rispetto al tema complessivo che è quello del in sostanza la domanda che mi è stata posta è qual è il nostro rapporto con il mondo oggi partendo dall'ottica della scuola allora io credo che si possa sintetizzare tenendo anche conto di quanto di quanto oggi l'attualità ci sta come dire mettendo al centro della riflessione alcuni punti il primo punto userei la parola risacca io non sono un uomo di mare ma mi dicono risacca sia un'onda che trova un ostacolo e torna indietro ecco oggi noi a scuola stiamo vivendo quest'area di risacca provate solo a pensare a come e lo dico senza alcuna polea due anni fa la didattica digitale integrata o la dad abbia salvato la scuola oggi è vista come la fonte di tutti i mali possibili immaginabili piuttosto che andare in dad si possono sacrificare come è successo un mese di finta scuola dicendo in aperta ma in realtà era semplicemente un casino allora la la risacca sta colpendo in maniera significativa la scuola eppure osservate ed è il secondo secondo elemento la parola guerra oggi siamo partiti parlando di guerra io ho iniziato a fare il dirigente scolastico vent'anni fa in occasione diciamo così di una guerra che ha citato benissimo prima Marco e ho avuto anche grossi problemi perché sulla scuola avevamo usato non usava davvero all'epoca avevamo messo fuori la bandiera della pace e avevamo detto chiarissimamente in tutto a tutto il paese dove era questa direzione didattica che noi eravamo una scuola di pace con tutti i problemi annessi e connessi perché la scuola non fa politica la scuola si disinteressa in realtà io vorrei usare del tema della guerra che oggi non solo dalla scuola ma di sicuro dalla scuola non è percepita come una possibilità reale si studiano le guerre ma non sono percepite come dietro la porta al riguardo oggi siamo il 14 febbraio ma riguardo io vado indietro solo di due anni il 14 febbraio di due anni fa il covid era visto come un qualcosa di lontano che riguardava quegli sfigati di in sostanza poi mentre si avvicinava è stato visto come un qualcosa che era controllato che era controllabile e che riguardava quelli di codonio che è molto vicino a parma e io vengo da parma poi improvvisamente era il 22 23 febbraio di colpo il 24 almeno in emilia romagna abbiamo chiuso su tutte le scuole e ci siamo rivisti a settembre allora osservate questa riflessione mi permette di dire che improvvisa come improvvisamente tutti siamo stati coinvolti da una cosa che non pensavamo ci potesse coinvolgere e nei confronti dei quali abbiamo utilizzato molto spesso parole della guerra abbiamo utilizzato molto spesso per interpretare covid e tutti i suoi fratelli la lotta a eccetera la antica e la sintattica della guerra poi solo dopo pian piano è venuto fuori il concetto di cura e noi siamo lo rivendichiamo quelli che hanno utilizzato il concetto di cura come fuoriuscita non bellicista dalla logica nella quale siamo stati coinvolti con il covid beh la scuola in quel frangente in quel frangente ha fatto i conti certo con la sua fragilità fragilità sistemica in primo luogo ma ha fatto anche i conti con il compito di prendersi carico dei ragazzi e delle ragazze dei bambini e delle bambine che sono il presente futuro del nostro mondo e non ha chiuso i battenti ma ha fatto il suo lavoro cioè si è reinventato facendo scuola ecco la sfida che noi oggi abbiamo mi sembra sia questa sia quella di ed è come dire un pensiero tragico di chi è sui bordi sull'abisso di chi deve iniziare a pensare dentro la scuola nell'azione quotidiana che la guerra è possibile ed è appena fuori dalla porta e questo non per generare paura ma per compiere la stessa operazione che abbiamo compiuto nei confronti del covid cioè far ripartire la capacità di educare di muoversi di generare prospettive nuove certo una scuola che oggi è centrata soprattutto su se stessa questa è la risacca centrata sulle conoscenze centrata sul dibattito se all'esame di stato la seconda prova la fanno i docenti della classe la fa il collegio docenti la fa il ministero che tanto non vale niente ecco come se come dire fosse quello quello che conta sabato ho fatto una cerimonia di consegna dei 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 diplomi di due anni fa di una classe qui con anche un diploma alla memoria di una ragazza morta prima di poter per per malattia prima di poter dare gli esalti stato ebbene ho ricordato agli alunni ai compagni di classe che hanno ormai due anni in più che forse con due anni di mananza se c'è una cosa che non ci interessa e che voto abbiamo preso nessuno di noi più di tanto se lo ricorda non è così rilevante quello che conta è altro quello che conta sono le relazioni che abbiamo messo in campo quello che conta è la capacità per dirla oggi nel mondo della scuola di mettere in campo l'azione trasformativa quella che è il curriculum trasformativo dell'educazione civica si dibatte tantissimo e ci sono fior fior di quali che continuano a ravanare dicendo che la scuola è conoscere ovidio che non è competenze che non sono le competenze civiche che no che è solo conoscenza abbiamo sperimentato prima con la crisi jugoslava poi con le guerre da 2003 in avanti che le le conoscenze nulla possono per fermare le guerre ecco le scuole oggi sono chiamate davvero a compiere con uno sforzo immane quello che è il ruolo ovvero di essere capaci di anticipare di realizzare con studenti e studentesse bambine e bambine il dettato costruzionale cioè che è quel rifiuto della guerra che è quella centralità dei diritti umani che è la capacità di prendersi cura di sé degli altri e del mondo perché ha ragione flavio non esiste distinzione non non sono tre diverse sono la stessa cosa e guardate oggi questa cosa e chiuda è veramente è veramente molto molto complicata che un diciottenne di oggi e parlo per la scuola superiore ma anche chi traffica dentro questa università noi stessi non abbiamo l'esperienza della guerra è un impensato ed è un impensabile per noi che siamo vissuti in italia è un impensato un impensabile possiamo forse ed è molti di noi l'hanno fatto l'abbiamo testimoniata l'abbiamo vista dove l'abbiamo documentata l'abbiamo commentata letto abbiamo lottato contro ma è sempre la guerra degli altri non la nostra non quella dove rischi di saltare per aria tu allora guardate che un ragazzo oggi di 17 18 non ha assolutamente esperienza non ha nessuno che gli racconti cos'era e qui chiudo mio nonno era stato in grecia durante la seconda guerra mondiale mi raccontava cosa voleva dire essere esercito italiano in grecia e entrare dal dai combattimenti in grecia solo perché suo fratello con la julia era morto in russia queste persone morto disperso mai più trovato in realtà queste avevano una narrazione della guerra noi non ecco oggi la grattica che facciamo come scuola è quello di passare dallo studio di un fatto lontano alla presa di consapevolezza che è un fatto vicino che può interessarti immediatamente che chiede la tua cura oggi perché quello che succede nel mondo quello che succede nella società quello che succede nelle tue relazioni e in te stesso sono la stessa cosa ecco allora che torna chiudo davvero quello che diceva il padre della pedagogia moderna che io cito sempre che amos comenius nel pieno delle guerre di religione a metà seicento dice ed è il più grande nessuno va a leggere come voleva le scuole comenio oggi le prende lo traduce in italiano corrente lo fa votare diventa una legge sarebbe mille volte meglio delle riforme che abbiamo in casa in questo periodo dice noi dobbiamo formare uomini e donne è il primo che dice che bisogna formare anche le donne ad essere non spettatori ma attori non spettatori ma attori qui siamo in un centro di ricerca universitaria io rappresento la scuola indegnamente è chiaro ma non spettatori ma attori una scuola capace di diventare attore di diventare attori i suoi bambini le sue bambine significa implica una scuola che si prende cura del mondo e chi si relaziona in maniera corretta grazie grazie ad aluisi tosolini e lo ringraziamo anche per il lavoro che sta facendo come coordinatore della rete nazionale delle scuole di pace e che abbiamo un'esperienza altamente positiva che di recente è stata affiancata con un'altra esperienza che crescendo e che quella della rete nazionale delle università per la pace creata per iniziativa della conferenza dei rettori delle università italiane e qui con noi tra l'altro nel zoom la professoressa e il sapelle che è la coordinatrice della rete che prendrà la parola tra d'ora la parola francesco cavalli direttore del gruppo icaro insomma compagno di viaggio tante iniziative di questi ultimi trent'anni giusto per mettere un nome di fianco beh intanto credo che l'appuntamento di oggi come ricordava anche a luisi poterlo fare almeno in presenza con qualche d'uno sia già di per sé un grande segnale un segnale di come in questo periodo il prendersi cura fa e anche attraverso le modalità con le quali ci cura abbiamo fatto due anni di collegamenti zoom dirette streaming e quello che è invece la possibilità di guardarsi negli occhi parlarsi di andare anche oltre no a a quelle che sono solamente gli aspetti di contenuto che pure sono fondamentali ma anche attraverso la relazione credo che sia già un pezzo di questo cammino di cura che stiamo facendo dicevamo come la pandemia adesso davanti ad una cosa che da anni predicavamo dicevamo di come quel tu se ti è in francese come tutte collegate di come la globalizzazione mondiale no dall'acquisto dei prodotti da come il mondo si tiene insieme ma non avevamo bene fino in fondo idea di che cosa questa cosa volesse dire e un virus che parte a un animale da un mercato in cina diventa fenomeno mondiale in pochissimo tempo in realtà ci ha messo davanti all'evidenza palesato questa cosa quindi qual è il nostro rapporto con il mondo che il punto di partenza dal quale vogliamo partire questa mattina nella prospettiva del prendere cura del farci cura partire da questo elemento da questo dato mi viene naturale partire da dire che il rapporto con il nostro mondo oggi che noi abbiamo è un rapporto malato non a caso parliamo di cura e diciamo che l'approccio che dobbiamo avere nei confronti porto con il mondo è un approccio di cura perché il mondo è malato ma aggiungo che il rapporto che abbiamo con il mondo è anche un rapporto mediato cioè noi il nostro rapporto con il mondo è la conseguenza di quello che ci viene raccontato di quello del quale noi abbiamo notizia informazione conoscenza ciò che non esiste ciò che non ci viene raccontato per noi non esiste ciò che non viene portato all'attenzione non esiste quindi per noi esiste il mondo che passa attraverso questa mediazione l'altro non esiste fino ad arrivare al paradosso e adesso vi racconto un aneddoto particolare perché mi è rimasto particolarmente impresso che arriva la massa per noi per tante persone ad esistere anche qualcosa che nella realtà non esiste ma che siccome ci viene raccontato esiste il fenomeno delle fake news oggi si chiama così ma è un fenomeno antico l'aneddoto viene in mente è questa storia dentro al romanzo neve di pamuk dove il protagonista questo giornalino turco che vive in germania torna nella turchia orientale per andare ad indagare su una vicenda giornalistica ma questo è un dettaglio e avviene un fatto un certo momento in cui lui deve partecipare ad un evento pubblico in un teatro la sera dove deve parlare in pubblico a questo il giornalista del principale quotidiano di questo paesino della turchia orientale siccome siccome le 20 sera il pomeriggio scrive già ipotizzando quello che sarebbe stata tutta la serata conoscendo il personaggio conoscendo quello che veniva fuori e poi succede un fatto e questa serata non si svolge ma la mattina dopo i giornali c'è il racconto di quello che sarebbe stato questa serata e ca che il protagonista del romanzo si trova in questa situazione paradossale va a fare colazione al bar e lui era il protagonista della serata e si mette a discutere con le persone al bar che gli raccontano che cosa è stata la serata lui dice ma la serata non c'è stata io il protagonista non sono andato e non gli credono non gli credono e dico ma come è scritto sul giornale c'è la serata c'è stata hai detto le cose adesso non nasconderti non dire che non le hai dette le hai dette queste cose dico questo come paradosso perché se il nostro rapporto del mondo con il mondo è un rapporto mediato noi dobbiamo avere la grande consapevolezza sotto chi opera nell'informazione ma oggi nel mondo dei social network nel mondo multimediale tutti siamo in qualche modo per comunicazione di informazione non sto a ricordarvi come le primavere arabe sono scoppiate lo sappiamo benissimo che non sono stati i giornali o i media mainstream che hanno portato a fissa di quello che stava accadendo a Sidi Bouzid e di quello che ha fatto Mohamed Bouazizi e che è diventato il punto di partenza quindi siamo in modo tutti responsabili in particolar modo ovviamente chi è che per mestiere fa l'operatore dell'informazione perché nello scegliere di dare informazione nello scegliere di dare informazione si gioca la nostra responsabilità con il mondo perché se esiste quello che noi raccontiamo e addirittura se arriva ad esistere quello che non esiste perché viene raccontato e viene alimentato mi viene in mente quella scena non so se qualche di uno di voi ha avuto l'opportunità di vedere quello splendido lavoro di inchiesta quel film che si intitola The Dissident che racconta la storia di Jamal Cassoggi c'è una scena nel racconto di questo film documentario vi suggerisco di vedere se non l'avete visto purtroppo in Italia l'ha trasmesso la sette onore ad Andrea Purgatori che ha scelto di trasmetterlo le altre reti si sono rifiutate e c'è una scena secondo me impressionante nel momento in cui il principe Saoudi per contrastare Jamal Cassoggi che viveva negli Stati Uniti e che faceva la sua informazione diciamo di libri di espressione del proprio pensiero principalmente attraverso Twitter e c'è questa scena in cui si vede come Cassoggi assolda centinaia e centinaia di io li chiamerei militari da tastiera perché quella è una guerra che da dietro un computer in modo sistematico fanno un lavoro di creazione di fake news e di contrasto a tutto quello che era l'informazione che Cassoggi faceva a social network. Ieri il Corriere della Sera ha fatto questo articolo dicendo che la guerra in China è già iniziata perché oggi la guerra la si fa con l'informazione ancora non hanno iniziato a sparare speriamo che non lo facciano ma noi stiamo dicendo no ad una guerra che già è in corso perché le guerre oggi si fanno così vi ricordate quando nel 1909 la Nato quindi in qualche modo dico noi so che noi diciamo che non siamo noi no ma la Nato ha bombardato la televisione di Belgrado perché considerata obiettivo militare strategico non perché sparando per sbaglio ha preso la televisione di Belgrado obiettivo militare strategico e se nel 99 l'obiettivo militare strategico era la televisione oggi l'obiettivo militare strategico sono gli spyware sui telefoni sono twitter sono questi eserciti no a principe saudita dove centinaia di persone i russi in questo ci hanno insegnato di essere maestri e l'hanno dimostrato nei fatti ora per andare alla chiusura e a quello che è la suggestione che voglio lasciarvi volevo raccontarvi delle delle le guardate volevo dirvi di come secondo questo criterio c'è un diritto umano che non è scritto nella dichiarazione ma che secondo me dobbiamo aggiungere che il diritto ad esistere attraverso il racconto che il diritto ad esistere attraverso l'informazione perché se è vero che esiste ciò di cui viene raccontato di quello che sta accadendo in questo momento in Repubblica Centrafricana non c'è stesso diritto la stessa dignità di esistere di quello che è stata la sacrosanta importantissima parentesi che Papa Francesco ci ha dato perché ha detto la parola Yemen io sono andato a leggermi giorno dopo le reazioni che ci sono al fatto che almeno il Papa ha parlato dello Yemen almeno il Papa ha detto la parola Yemen stessa cosa se avesse detto Sudan stessa cosa se avesse detto pubblica centrafricana ma tutti hanno la stessa dignità lo stesso diritto di esistere e allora la suggestione con la quale vi voglio lasciare è per la mia esperienza personale quella che posso portare non come a Luisi da dirigente scolastico io qualche volta cerco di andare a incontrare raccontare storie che incontro in giro per il mondo e che se tutto questo è vero se la realtà il rapporto che abbiamo con il mondo è un rapporto malato se il rapporto è un rapporto malato c'è bisogno di una cura questa cura passa attraverso la cura dell'informazione e la suggestione che mi sento di lasciare questa cura dell'informazione è che l'informazione quella mainstream e oggi ripeto quella alla portata di tutti deve fare un salto che è quello di mettere al centro la persona il centro dell'informazione essere la persona e il centro della persona ha una duplice valenza da una parte il fatto che quando noi diamo delle informazioni quando noi raccontiamo delle cose sempre chiaro la finalità che è quella quanto questa cosa mette al centro la persona e dall'altra parte il dare diritto di cittadinanza alla storia delle persone raccontiamo i fatti attraverso la storia delle persone partiamo dalla storia delle persone per far capire cosa sta succedendo partiamo dal dare cittadinanza a coloro dei quali nessuno parla secondo questo è un passo vero nei confronti della cura nel rapporto con il mondo e concludo con un altro aneddoto che mi ha particolarmente colpito sono stato uno scorso in repubblica centrafricana c'è una radio che si chiama radio siriri che in lingua locale vuol dire pace radio pace che è nata proprio radio della pace in una zona di guerra che ormai si continua a combattere anche dopo le ultime elezioni di quelli che viene detto latente ma in realtà la gente muore e soprattutto tutti quelli che sono le condizioni della guerra vengono vissute quindi l'impossibilità a spostarsi il pericolo a spostarsi le guerriglie che impediscono alle persone di incontrarsi e questa radio fra le tante cose che ha fatto e adesso non mi dilungo su questa ce n'è una rimasta in modo molto particolare che si è messa al servizio delle singole persone delle singole famiglie laddove non avevano possibilità di spostarsi per comunicare con i propri familiari con i propri parenti magari anche solamente ad alcune decine di chilometri di distanza ma per via di questo notatorio frastagliato e controllato dai signori della guerra di come loro come radio radio sirivi si sono messe a disposizione anche semplicemente per dare informazione qui stiamo tutti bene e flavio vuol far sapere aranda che dall'altra parte che può incontrare non la può andare a vedere che oggi ha fatto questa cosa che sta bene che è andato a fare la visita e che è stato curato che è arrivato un ente che sono arrivati la comunicazione base fatta da una radio perché è l'unico modo per arrivare al rapporto fra le persone con le persone mi sembrava una bella suggestione grazie grazie francesco peppe giuglietti presidente della federazione nazionale che è fondatore e animatore instancabile di articolo ventuno e amico di tutti quanti noi instancabile meno diciamo però grazie finché c'era la pepra dammi tempi io voglio fare alcune riflessioni alcune proposte fissazione di vedere se possiamo individuare alcuni elementi di lavoro comune quindi in primo luogo se è possibile è già fatto flavio un grazie a tutta la rete che sono stati anni difficilissimi lo faccio oggi per ieri perché non c'è stanno sulla rocca guardate che avere fatto due edizioni della perugia assisi una con un metro di distanza è quella di quest'anno è qualcosa di straordinario è stata una grandissima marcia contro i veleni non contro il virus e basta contro i veleni dell'odio dell'intolleranza del razzismo fatte in condizioni difficili quindi la prima cosa credo sia un ringraziamento a voi ovviamente attraverso voi a flavio a marco e a chi ci ascolta perché in quella marcia ci sono che ha una caratteristica io penso da preservata che è un po' simile alla giornata della legalità del ventun marzo di donciotti non è uno sfogo quantum è un'iniziativa annuale di costruzione di progetto che termina nella marcia non so se ho ricordo ma è cosa diversa perché questo patrimonio di originalità vada ribadito e conservato perché è questo l'elemento della condivisione vi ringrazio anche per aver levato quei cartelli perché non so voi io francamente sono invecchiando divento forse più infastidisco ma anche questi in questi giorni qualche giornalista dov'è il popolo della pace dove siete dove siete finiti ora francamente posso dirlo senza fare le azioni a nessuno è una cosa vera cioè che persone che per 365 giorni all'anno non muovono un dito per la cura degli altri quando ci sono eventi di guerra chiedono che giudicano con l'ostilità voi dove siete ma è una roba non so se non posso dire no mi fermo per tempo dopo la sede di ospitato papisca di controllare il mio linguaggio diciamo e di adeguarmi è una cosa vergognosa vergognosa segnalo che oggi la comunità antegidio che non è esattamente un luogo di concentrazione dei bolshevichi d'europa ha proposto una manifestazione immediata su questi temi è uscito anche un documento della conferenza episcopale sull'avvenire di questa mattina credo che la marcia perugia assisi abbia tutti gli strumenti per proclamare chiedere da qui che ci sia una grande iniziativa non una generica iniziativa un'iniziativa di riflessione sui venti di guerra che sappia parlare con la stessa fermezza e anche alla presidenza americana che riporti al centro la politica come avete detto non devo aggiungere nulla credo però che questa marcia abbia tutti i titoli per poter proclamare grandi iniziative locali e nazionali che non è solo un generico urlo ma è una riflessione mi ha stupito ieri sera un generale dei carabinieri tg3 ieri sera andate a vederlo con grande serietà dice attenzione è teatro di guerra perché di guerra nel quale gruppi nazi neonazisti me lo ricordava roberto reale una parte dei quali vi segnalo formati in italia per esempio quelli che hanno ammazzato rocchelli sono neonazisti mercenari partiti da osino o perlomeno identificati in questo gruppo poi sarà entrato a verificare non sono io avete visto quello splendido documentario di rai news che ha riaperto clamorosamente l'assassinio di cataldi e di rocchelli ci sono formazioni di mercenari neonazisti che partono per la russia per l'ucraina capita che sono contraddizioni che noi non possiamo creare un'azione lo dico a me stesso deve darmi tutti gli elementi della conoscenza per farmi capire cosa accade là poi se posso dire una cosa paradossale nello stile della grande grea dei popoli convocata a perugia più volte il problema non è solo l'onu ma non comprendo perché non ci possa essere uno scatto da parte dei dirigenti europea e dei governanti europei per i quali tu richiami il personale civile no vediamo se riesco a dirlo bene senza demagogia ma schieri te stesso a cosa chi può impedire ai governanti di schierarsi sui confini fisicamente simbolicamente uscendo da una logica militare cioè la politica che si contrappone questo non è mai accaduto lo so ma noi dobbiamo richiamare un ruolo di testimonianza anche la politica penso alle ultime parole di una persona a noi molto vicina che ci ha seguito del presidente davide sassolli la plastica la differenza tra moderazione e moderatismo che non solo capisco a dare un esempio dico tutto questo perché la perugia si deve indicare un percorso quello che a me ha colpito dei documenti di quest'anno e arrivo alla proposta perché sono diverse le tradizioni ma c'è chi crede ma c'è anche chi non crede è stata la capacità di mettere assieme le citazioni del prendersi cura di don milani con un'altra citazione a me che dovremmo sottolineare con più forza che quella di antonio gramsci dell'opposizione all'indifferenza perché questo mette assieme culture diverse diverse fedi religiose che non si ritrovano in una sola posizione perché quello che voi avete fatto lì e che io mi permetterei di alzare della riflessione vedo la professoressa laura nota roberto reale piracini tanti amici salderei maggiormente il rapporto tra articolo tre della costituzione italiana e articolo vento cioè il tema del favorire l'inclusione e l'accoglienza e il compito dell'informazione della rimozione delle barriere una parte professione non ci crede ma la lotta politica e questo come ci insegna roberto reale noi non dobbiamo curare i nostri simili se l'ho capito bene ma fratelli e sorelle sempre dovunque comunque a prescindere dal colore della pelle dalla religione delle opinioni politiche questa è la novità del percorso preso siamo sicuri voi lo avete già fatto non ho nulla da insegnare sia chiaro è solo un contributo e la grande esperienza ultima anche della perugia che io ritengo eccezionale e il lavoro particolare dell'università di padova insieme alla rete delle università non ci consenta per esempio possibilità di connessione con i grandi laboratori di fratelli tutti che stanno nascendo in l'italia nata anche una fondazione che sta dando vita ad essenzione su tutto il territorio nazionale naturalmente non un'esperienza di tipo confessionale ma un'esperienza dove le diversità si incontrano nella cura e questo deve essere se no tu dici che vuoi includere ma escludi chi prega in un altro modo o chi non prega per nulla è un dato secondo me sul quale possiamo lavorare una scelta che ha avuto in questo luogo per questo insisto in antonio papisca oggi in masce voi il punto di riferimento teorico e pratico quando dicevo moderazione moderatismo non è una battuta moderazione una scelta dei metodi e dei fini il moderatismo è un'ideologia che tende per esempio anche di fronte alla guerra a privilegiare lo talvolta più l'opportunismo dell'opportunismo più la realpolitik che la centralità dei diretti non sono la stessa cosa capisca abbiamo una grande moderazione di percorso se lo ricordo bene ma una radicalità della tutela dei valori va rispiegata bene questa differenza la proposta visto che siamo qui visto che siamo qui e visto che c'è un'eccezionale agenda che è stata distribuita mi permetto di dire a me stesso il primo luogo perché non si chiede agli altri disponibilità della federazione della stampa sarei quasi certo degli amici dell'ordine dei giornalisti nella nuova gestione vedo l'amico paglia lunga allora una connessione flavio in questo momento felicissima tra i costruttori dell'agenda dei diritti con una caratteristica che abolisce quell'antica e pericolosa distinzione tra i diritti civili sociali e politici e si rende conto che non ci può essere il capitolo di civili diritti sociali diritti politici perché se non ho rischio di non essere con un gioco di parole e qui invece c'è una piedezza della centralità che vuole appunto sulla dignità della persona che cosa diversa dunque però c'è anche un'eccezionale esperienza che il primo corso in italia qui c'è un primo corso in italia universitario le parole non sono pietre la deciprazione delle industrie della falsificazione molte delle quali le trovi proprio finito le trovi proprio nell'est Europa nei paesi ex comunisti ma anche nella tradizione di steve ben non in america non a caso si congiungeva il pensiero di ben non con il pensiero del sovranismo di alcuni paesi ex comunisti attenzione ecco perché è molto più contraddittoria la situazione di come la descriviamo per questo possiamo pensare chiedo nell'ambito dei corsi che la tavola sta già organizzando nell'ambito del grande concorso di articolo ventuno in tutte le scuole italiane ne parla elisa marincola nell'ambito dell'ottimo rapporto dal centro dei diritti e questo luogo che non è un luogo non so se riesco a spiegarlo bene loro formano dei termine brutto formano degli studiosi della rete che sono la falsificazione falsificazione che crea oscuramento e che impedisce realizzazione dei diritti io penso che questa eccezionale connessione padovana possa per noi diventare una proposta nazionale una proposta di lavoro in tutte le scuole italiane in tutte le università in tutte le redazioni perché molti iniziare da me debbano denunciare proprio ad alfabetismo senza superbia io credo che possa diventare uno strumento di azione politica plascio ci porta la rocca e non è vero che non accada nulla perché il nostro lavoro comune ha prodotto dei risultati il giorno primo marzo per chi fu interessato in un luogo simbolico non scelto a caso la grande moschea di roma insieme con padre Antonio Spadaro direttore della cattolica di vita rivolta anche alla comunità ebraica sicuramente tutta la comunità evangelica e valdese sicuramente tutte le istituzioni dei giornalisti con molte testa sul modello della dichiarazione di fratellanza di Abu Dhabi intendono stendere un modello di dichiarazione di fratellanza mediatica di contrasto dell'uso della come strumento di costruzione dei muri dell'odio cioè dar vita a un vero e proprio manifesto perché ho detto questo perché questi tre elementi potrebbero connettersi ed essere una modestissima proposta offerta a questo tavolo chiudo ricordando che oggi è il quattordici febbraio e se quattordici febbraio c'è una grande iniziativa in Italia la scorta mediatica per coloro che tendono verità e giustizia fu promossa dai familiari di Giulio Regeni che non chiedono verità e giustizia solo per il loro figlio ma per tutti i Giulio e le Giulie d'Egitto è stata sostenuta dalla famiglia Rocchelli il figlio è stato ammazzato in Ucraina sostenuta dalla famiglia Paciolla il figlio è stato ammazzato in Colombia e tra qualche giorno anche a Padova ricorderemo troppo il 28esimo anniversario di Alpi Rovatin l'ho voluto ricordare perché oltre alla nostra attività di studio occorre far sentire sempre voi lo fate in modo egregio una grande passione civile per chi non c'è più perché la memoria lo sia cancellata tutto questo bastava dire semplicemente grazie al vostro lavoro grazie davvero Beppe anche per tutte le proposte concrete che dobbiamo fare tesoro eh Mariam Bukhra 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 perdonami Mariam ma ancora il cognome eh non mi è entrato Mariam è in servizio civile prego eh buongiorno a tutti a tutte e a tutti eh io sono Mariam Bukhra ho ventisette anni queste due cose perché sono le cose in qualità di cosa parlerò oggi cioè di me stessa e della mia esperienza personale e italiana e mio papà è venuto dal Marocco però non ha mai amato definirsi marocchino piuttosto gli preferiva dire che è cittadino del mondo e questo forse è stato il mio primo eh incontro con questa parola e mi ha portato a rifletterci e mh ancora di più in particolare diceva che la terra è di Dio quindi le divisioni le divisioni che ci sono sono più divisione divisioni che portano racchiudono ricchezze diverse incontri in particolare c'è un versetto del Corano che dice uomini vi abbiamo creato da un maschio e una femmina abbiamo fatto di voi pop e tribù affinché vi conoscesse a vicenda presso Allah il più nobile di voi è colui che più lo teme questo da una parte quindi d'altra forse una fatica a riconoscermi da da una parte e dall'altra mi hanno portato a vedere le differenze tra le persone come delle ricchezze da conoscere e eh proprio per questo sono sempre stata interessata a conoscere persone provenienti da tutto il mondo e questa questa come dire cosa mia c'è un altro aspetto che volevo che volevo citare cioè l'appartenenza religiosa e perché secondo me è una cosa che alcuni eh non riescono a vivere ma è una cosa che ti porta a sentire fuori dalla tua persona il sentire anche le persone questo io l'ho vissuto eh in che modo sentendo vicini a me musulmani provenienti da qualsiasi parte del mondo perché soprattutto di avere una fede comune me li faceva sentire un po' più vicini ha allargato il mio sentire che io trovo positivo e mh proprio per questo sono vanciuta eh tra manifestazioni mh per la Palestina per la Siria per l'Egitto e eh ora col senno dei pochi questo ha mh ulteriormente ha allargato il mio sentire a problemi che stavano lontani magari per i miei coetanei e le persone con cui vivo e mh eh 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 per quanto riguarda l'informazione volevo che io sono tanti anni che non guardo il telegiornale eh per due motivi mh da una parte per l'angoscia che mi portava a vedere certi telegiornali e dall'altra per il modo in cui venivano raccontate le informazioni infatti mi ha fatto piacere sentire gli interventi sulle informazioni perché credo di aver vissuto tutti i giorni gli effetti di notizie raccontati in un certo modo quindi preferisco informarmi attraverso altri canali come i social network anche se ne riconosco i limiti perché nei social network viene informato in base ai tuoi interessi quindi devi essere come dire devi cercare il mondo per essere informato sul mondo e questo anche se non è non ero completamente consapevole perché mi è capitato di chiudere facebook un po' mi sono resa conto che non avevo più informazioni sul mondo dicevo ok sento notizie dalle persone intorno a me e dicevo questo non lo sapevo lì mi sono resa conto i social mi aiutassero anche a rimanere informata su ciò che accadeva anche se può avere un altro effetto diciamo negativo quando un'informazione ti viene portata davanti troppe troppe volte a quel punto rischi di essere come dire provare una certa annausa con fronti di alcune notizie quindi tendi a a saltarle e sono stata contenta di che ci sia stata posta questa riflessione sul mondo perché non l'avevo mai fatta ma mi ero resa conto che il mio modo di vedere il mondo era a volte un po' diverso da come lo vedevano i miei amici la maggior parte non tutti dei miei amici mi è capitato di parlarne anche recentemente dicono che non gli interessa quello che succede nel mondo perché finché non li tocca non ne sentono il bisogno di pensarci questo secondo me non è motivo vero o uno dei motivi cioè forse è uno dei motivi ce ne sono altri quello che ho pensato ho pensato che potrebbe avere un motivo che un po' condivido è il senso di impotenza che a volte abbiamo nei confronti di quello che accade intorno a noi e questo senso di impotenza è dato da due cose da parte perché pensiamo cosa potrei fare io non lo so ma lo pensiamo in quanto singoli individui non abbiamo il come dire il pensiero che potremmo agire come una collettività ci manca questo questo passaggio e e niente basta così grazie Marian no davvero grazie per averci aiutato a a prendere sul serio anche una dimensione importantissima insomma della nostra esistenza che adesso come dire non non ignoriamo non consideriamo pienamente Elena Elena Belia ha pensato di riunire tre comunicazioni tre riflessioni di tre giovani in servizio civile presso il comitato promotore della marcia per oggi assisi perché anche per noi l'organizzazione di questo incontro è stato un momento di riflessione insomma Elena sì buongiorno a tutti e a tutti sono Belia e oggi mi è stato chiesto di parlare del mio percorso personale e soprattutto della visione dalla rivista giovanile del mondo vi parlerò del mio percorso personale nel come sono riuscita a sentirmi e come ogni giorno riesco a sentirmi parte di una collettività come diceva Mariam di una comunità che solamente unendosi raggiungere degli obiettivi degli obiettivi concreti il mondo il luogo in cui sono nata e vivo è la mia casa la casa dell'umanità delle generazioni presenti e di quelle che verranno a volte mi soffermo a pensare come sia possibile che oggi il nostro rapo con il mondo sia gravemente contraddittorio la ricerca sfrenata del massimo profitto alimenta da anni uno sviluppo economico non sostenibile che ci porta a sfruttare ad oltranza ho bagliato scusate la ricerca sfrenata del massimo profitto alimenta da anni uno sviluppo economico non sostenibile che ci porta a sfruttare ad oltranza in modo irragionevole le risorse disponibili a costo di compromettere l'esistenza delle generazioni future e la biodiversità che caratterizza il nostro pianeta a nostro discapito anche le nostre scelte di consumo orientano il mercato e spesso hanno un impatto ambientale devastante l'eccessivo consumo di carne ormai generalizzato porta ad abbattere foreste per adivire quasi la metà della superficie terrestre all'allevamento industriale e ad appezzamenti destinati alla agricoltura del bestiame con una conseguente riduzione della biodiversità un uso insostenibile dell'acqua l'inquinamento delle falde acquifere e le forti emissioni di gas serra che portano al riscaldamento globale anche solo lo stile di consumistico a cui tutti siamo abituati condiziona il nostro rapporto con il mondo dovremmo chiederci adesso se oltre a prendere possiamo anche dare ma prima ognuno di noi in un momento della propria vita deve sentire che questo mondo è nelle sue mani io ho iniziato a sentirmi veramente parte del mondo e delle medie quando la mia classe ebbe la fortuna di incontrare una volontaria di una famosa associazione che prestava servizio in Africa la quale mi incuriosì così tanto che riportai questa esperienza proprio nella prova scritta dell'esame di terza media eh sì quelle foto di paesaggi mozzafiato quell'umanità ritrovata quel donarsi mi aveva davvero lasciato un segno questa scoperta del mondo è continuata grazie alla scelta di un liceo linguistico che mi ha portato all'estero sperimentando nuove culture e tradizioni ma questo non mi portava a perseguire completamente il mio obiettivo che era e che è tuttora il voler prendere parte a un cambiamento finisco il quinto interiore e riesco a superare le mie paure sostenendo una prova mesconosciuta la maturità riesco a prendere la patente ma arrivata a quel punto non sapeva cos'altro fare provavo un forte senso di esolazione all'età di 20 anni consigliata da alcuni amici mi iscriva al bando del servizio civile decidi accettare la sfida ma ovviamente non avrei aderito ad un progetto qualunque il titolo lo lasciava intendere giovani costruttori di pace mi ha accettato subito e mi ha suscitato non solo curiosità ma ha anche risvegliato in me quel senso di dovere che un po' mi mancava da quel momento ho iniziato a occuparmi del in questo percorso sto sperimentando tante novità innumerevoli volte ho avuto la possibilità di prendere posizione esprimendo il mio pensiero ho organizzato insieme ai miei colleghi la sessantesima marcia perugia assisi alla quale ho poi partecipato per la prima volta e che mi ha reso immensamente felice era di essermi messa in gioco ho potuto condividere la mia esperienza con mille persone diverse quel giorno e ora sono qui a testimoniarmi a testimoniarmi che ad ormai ventun anni penso di aver trovato la mia strada mi sono iscritta quindi all'università ad un corso chiamato SIS studi internazionali sostenibilità e la sicurezza sociale nel quale sono convinta potrò crescere e diventare sempre più consapevole che il mio cammino darà presto frutti grazie a basi formative solide ecco perché dobbiamo sentirci parte di un tutto per salvaguardare in primis noi e le generazioni che verranno in Italia che in tutto il resto del mondo oggi abbiamo a disposizione tanti strumenti per conoscere i fatti che accadono in tempo reale ma dedichiamo poco tempo ad approfondirli e a condividerli per questo ci accontentiamo delle spiegazioni che ci vengono fornite dai giornalisti di turno e questo non tiene in allenamento la nostra coscienza critica esponendoci ai vari condizionamenti personalmente dopo aver appreso una notizia ne parlo subito con mia madre e cerco di farmi un'opinione sull'accaduto mi rendo conto che i nostri genitori che sono solo la generazione precedente erano più abituati a condividere le informazioni dato che dopo averle apprese alla televisione comezzo ne parlavano nell'immediato molto spesso anche loro si fermavano all'unica versione dei fatti divulgata dai mass media oggigiorno abbiamo bisogno di creare nuove occasioni di incontro e di condivisione che ci permettano prima di tutto di essere solidali e di aiutarci lui e l'altro poi le scelte consapevoli spesso alternative per costruire un cambiamento che alimenti il bene comune rinunciando ogni giorno al pessimismo e alla cultura del fatto grazie a tutti grazie Elena grazie anche per questo sforzo che hai fatto di riportare la tua esperienza che probabilmente è un'esperienza che stanno vivendo anche molti giovani oggi un momento difficile in particolare anche Tancredi Tancredi ci senti vi sento voi mi sentite sì assolutamente prego buongiorno a tutti Marini altro volontario di servizio civile grazie buongiorno a tutti e tutte io riparto da Elena e Marian più o meno stiamo facendo questa esperienza insieme ed è un'esperienza che è molto importante secondo me alla fine dopo la pandemia la pandemia ha avuto modo di aprire un po' un doppio binario secondo me da un lato ci ha richiuso dentro le case ci ha riportato al nido e questo è successo per molti giovani ci ha messo in un involucro da un certo punto di vista al sicuro quando siamo stati tutti chiusi in casa dall'altro ha riattivato quella grande volontà di viaggiare di andare di vedere il mondo secondo me questo si è riattivato per tantissimi giovani era una cosa che magari davamo per scontata la davamo per scontata perché a differenza del passato la globalizzazione aveva fatto in modo che fosse più facile viaggiare io credo che rispetto a 20 30 anni fa oggi pensiamo all'Europa quanto è facile viaggiare in Europa a basso costo senza la burocrazia e questa cosa i giovani l'hanno ricevuta l'hanno presa come se fosse una cosa normale ecco la pandemia ha ridato un pochino un valore anche a quel viaggiare a quel vedere il mondo al tempo stesso secondo me c'è un doppio binario questo valore esiste lo troviamo dove delle esperienze ci hanno portato a percepirlo questo valore la mia esperienza personale è un'esperienza fortunata io vengo da una famiglia che ha avuto che mi ha potuto dare un'istruzione che mi ha dato anche tanti strumenti fin da piccolo per valutare com'era il mondo per vedere per sapere cosa volevo fare e cosa poi in un certo senso era giusto e cosa ho sbagliato queste esperienze a me mi hanno plasmato questo tipo di cultura mi ha fatto fare esperienze che sono state varie dall'università dagli Erasmus appunto quel voler viaggiare e scoprire il mondo in una certa maniera e mi hanno portato per esempio nel 2019 in Grecia a lavorare in un campo profughi sono esperienze che finiscono di formare che ti fanno vedere il mondo come magari invece fino a quel momento lo hai visto solo attraverso uno schermo come come sto oggi è un'esperienza a distanza ecco questa differenza del vedere il mondo però molto è dovuto alle esperienze che avevo prima al tipo di formazione che avevo avuto ricevuto creato con le esperienze precedenti e questa è la grande differenza che secondo me c'è tra parte dei giovani oggi tra due mondi divisi ci sono tanti giovani che fanno solo esperienze attraverso gli schermi attraverso i social network attraverso anche una forma di la è la società dell'apparenza che fa le scelte spesso per i giovani quando uno vede un un influencer o un blogger che fa una scelta anche di campo anche importante non sempre ha i mezzi e la capacità per comprendere da dove viene quella scelta qual è stata l'esperienza precedente per fare quella scelta e quindi perché magari un influencer oggi è a favore dei matrimoni equalitari e quindi propone quella cosa questa è la grande mancanza di un pezzo dei giovani quella capacità di fare di comprendere le scelte degli altri per quanto spesso e volentieri siamo assolutamente inseriti in queste scelte le vediamo le approviamo le le seguiamo e questa è un po' la cosa che volevo portare oggi io vorrei cerco ogni giorno nella mia piccola comunità tra gli miei amici di trovare i motivi per cui si fanno delle scelte le esperienze oggi sono questo per i giovani fare delle esperienze di realtà implica il portare avanti la comprensione delle scelte che poi facciamo tutti i giorni e concludo qua grazie 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 buon proseguimento anche per il tuo che è molto importante è la la vicinanza al reale l'immerse immergersi nella realtà ecco queste sono anche indicazioni concrete che possiamo riprendere nel pomeriggio perché sono piste educative piste formative importanti passo la parola a Francesca Bellini assessora alla pace ai diritti umani e alla cooperazione internazionale del comune di Padova grazie Flavio grazie Marco saluto tutte e tutti quelli che sono in presenza e anche le persone che ci ascoltano e ringrazio davvero oggi per essere qua insieme la presenza veramente ci ci fa fare un sussulto di ma che bello ascoltare una cosa anche insomma ci siamo poi abituati anche un po' alla distrazione di ascoltare online io ammetto nel senso che si è più dispersi mentre qua proprio anche vedere gli sguardi e sentire le parole accompagnate anche dal corpo che si muove insomma per me è un grande piacere e credo che oggi anche aver iniziato con questo momento eh sull'Ucraina sia eh sia un momento sia una cosa importante averlo fatto qua insieme in presenza ecco ci dobbiamo anche un po' riabituare no? a queste a queste battaglie allora io la domanda era qual è il nostro rapporto con il mondo oggi? e io mi sono interrogata come eh amministratrice di una città come Padova cos'è il rapporto di Padova oggi città con il mondo e nel leggere l'oggi non posso che pensare a una lunga lunga storia di una città che in realtà nella leggenda è stata fondata da Antenor e quindi qualcuno che scappò da una guerra poi sappiamo insomma siamo qua ospiti della nostra università ottocento anni di una università che ha portato su questo territorio per provenienti da tutto il mondo un mondo che man mano si è allargato in nome della scienza della cultura dell'arte del sapere e che ha portato in questi otto anni una serie di apertura al mondo io ho avuto il piacere di vedere per esempio il progetto di collaborazione con alcune università in Cameron dell'università di Padova quindi la presenza dell'università che ha aperto a studenti e professori ma anche che ha aperto canali di conoscenza partenariati con tante altri posti altri territori altre comunità scientifiche pensiamo che in quegli stessi anni in cui veniva fondata l'università di Padova viveva su questo territorio questa persona che poi è diventato Sant'Antonio da Padova ma che proveniva dal Portogallo e che oggi porta già negli anni successivi la sua morte è stata costruita questa grande basilica che ci porta migliaia e migliaia di pellegrini a Padova ma che Padova veramente andando in giro per il mondo prima o poi qualcuno ti chiede ah Sant'Antonio di Padova quando senti che sei di Padova e oggi siamo beh vabbè poi non parliamo della Serenissima il periodo della Serenissima della nostra storia cioè in cui attraverso la Serenissima quindi Venezia siamo stati in contatto con quel Mediterraneo che a scuola studiamo fin dall'inizio essere la culla e essere un mondo connesso perché quando siamo piccoli ci fanno studiare i Fenici ci fanno studiare la Mesopotamia e siamo tutti interconnessi oggi il quindici per cento della popolazione Padovana ha una cittadinanza non italiana e altre diecimila persone oltre a queste trentacinquemila hanno preso una cittadinanza di recente quindi la nostra città è strettamente e fondamentalmente nei secoli connessa con il mondo e non possiamo pensare oggi qual è il mio rapporto con il mondo se credo come anche amministrati non partiamo da questa consapevolezza noi siamo il mondo la nostra città è il mondo e è piena di mondo è piena di contatti è piena di canali che ci tengono collegati oggi i nostri ragazzi dell'Erasmus sono i primi cittadini europei quelli che ci ricordano che l'Europa non è solo di cui parliamo perché per loro è la realtà è la la loro vita no? e quindi anche questo vederci nel tempo all'interno di un mondo che è veramente parte della città quindi credo che una delle prime cose che come amministrazioni dobbiamo fare nel momento in cui ci chiediamo ma qual è il nostro rapporto nel mondo è valorizzare raccontare no? si diceva prima le cose avvengono perché vengono raccontate devono avere la dignità di essere raccontate e quindi credo che una delle cose su cui tutte perché poi adesso se parliamo dei nostri comuni italiani abbiamo tutti un po' queste storie di connessione con il mondo quindi la prima cosa sia veramente recuperare queste origini e dare dignità alle tante tantissime persone che abitano nei nostri territori perché sentano di essere degni di essere riconosciuti parte della nostra comunità e il primo balcone che ci apre al mondo e questo l'abbiamo vissuto in modo molto concreto quando quest'estate esplosa la crisi in Afghanistan immediatamente abbiamo ricevuto come città tantissime richieste di contatto da parte di persone di origine afghana che erano in Afghanistan e volevano rientrare tutti i documenti in regola e non potevano rientrare da parte di persone che abitano qua persone afghane che aspettavano i loro parenti che arrivassero ma anche tanta attenzione da parte dei cittadini padovani che si sono messi a disposizione o più recentemente della Sant'Egidio di cui per esempio si è parlato che ora è in attesa di poter collaborare con i corridoi umanitari allora cosa ci dice questa cosa? Ci dice che la città in questa apertura con il mondo è presente perché il mondo attraversa le sue strade attraversa le sue strade attraverso le persone che lo vivono le persone che ascoltano raccontano leggono e qua poi concretizzano il loro impegno e allora anche qua che cosa fare un ente locale? Deve dare dignità a queste storie deve far emergere queste persone adesso penso nell'esperienza del nostro comune per ri ri eletto la commissione per la rappresentanza delle persone con origine straniera che ci dà la possibilità di dire se anche non potete votare però potete dire quello che pensate potete aiutarci a capire il mondo a prenderci cura di il mondo attraverso di voi perché voi siete il primo canale con il mondo abbiamo una miriade di nazionalità in una città come Padova ma ormai tutti i nostri comuni sono così e quindi farci farci diciamo avere le comunità della diaspora il nostro primo elemento di contatto con il mondo è fondamentale ed è fondamentale che questi mondi siano in contatto con il resto della cittadinanza quindi dando occasioni concrete di conoscenza di incontro di progettazione condivisa farlo all'interno delle scuole con dei programmi che permettano di mettere in contatto le scuole le associazioni con questi mondi perché non è altro è parte della città è parte della cultura della città un altro aspetto importantissimo che ancora ci parla di numeri di una storia è quello della cooperazione internazionale a Padova abbiamo 80 associazioni iscritte iscritte al registro delle associazioni che si occupano di pace diritti umani cooperazione internazionale anche questo è un modo attraverso cui la città da stare in contatto e sempre di più si sta interrogando su quale cooperazione e è una cooperazione tra comunità in cui non siamo più né in quella prospettiva in cui noi diamo e diamo e facciamo del bene perché abbiamo capito e su questa la cooperazione di Padova si sta interrogando in modo puntuale e sta crescendo abbiamo capito che la cooperazione tra comunità la vicinanza l'incontro ancora una volta sulle nostre strade incontriamo le persone nella cooperazione internazionale si incontrano comunità diverse per tenersi aggiornate per costruire partenariati come quello che ho citato dell'università ma che avviene moltiplicato anche grazie alle associazioni della cooperazione internazionale pensiamo abbiamo qua dal QAM a una miriade di altre grandi e piccole ONG associazioni in contatto con il mondo e poi con dei progetti anche propri del comune abbiamo una rete di associazioni del territorio il prendersi cura dei difensori dei diritti umani attraverso il progetto in difesa di vuol dire tenere aperta un altro balcone su quello che è il lavoro dei difensori dei diritti umani e dire ci teniamo come rete territoriale fatta di tanti soggetti perché tenere un focus su questo e chiedere a queste persone di poter respirare nella loro battaglia stando qua dà ricchezza alla nostra città ci permette di prenderci cura di loro ma prendendoci cura di loro di prenderci cura di noi perché ci aiuta a fare quel passaggio i diritti umani li diamo per scontati e invece no attenzione che non dobbiamo mai darli per scontati li dobbiamo dare sempre come centrati nella nostra politica e nella nostra capacità di progettare il futuro assieme ma credo che un grande ruolo poi degli enti locali per favorire il prendersi cura del mondo sia quello di costruire percorsi di partecipazione della democrazia quello che veniva detto prima è non possiamo dimenticarci che c'è un tema che è quello della democrazia e allora credo che tutte quelle azioni che vanno proprio in una direzione di favorire la partecipazione dei cittadini e delle cittadine fin da piccoli come attori di quello che è il bene comune delle nostre città siano percorsi che devono andare perché devono andare premiati facilitati agevolati all'interno di una pubblica amministrazione che sempre di più deve sentire un'alleanza con i cittadini e le cittadine che devono sentirsi agoniste del loro vivere quotidiano all'interno del loro contesto perché io credo che un po' come nelle nostre famiglie nel momento in cui educhiamo i nostri figli a prendersi cura delle cose vicine poi riusciamo anche a prenderci cura ad aprire gli occhi e a guardare al mondo che ci sembra più lontano ma che come detto in realtà l'abbiamo molto più vicino di quanto a volte pensiamo e grazie grazie francesca grazie francesca stiamo siamo partiti dalla scuola stiamo attraversando molte molte dimensioni della realtà della nostra vita della realtà che che poi plasma concretamente anche i percorsi collettivi di impegno e Roberto Reale riprendiamo la riflessione attorno al ruolo dell'informazione Roberto Reale giornalista scrittore docente in master di comunicazione delle scienze grazie Flavio grazie anche a Marco per questa per questa occasione per questa opportunità sul tema della cura del mondo io mi sento parecchio a casa anche se non ho partecipato non partecipo a altre che voi promovete dico questo perché ho portato qui questo libro la passione per la verità l'ho portato in realtà per Flavio che mi aveva chiesto di poterlo vedere è un libro che abbiamo realizzato collettivamente dopo un bellissimo incontro al palazzo del Bo al quale hanno partecipato anche Beppe Giulietti la professore nota altre persone che sono qui coinvolte insieme a noi uno dei capitoli di questo libro si intitolava l'ecosistema dell'informazione senza la cura per la verità la democrazia muore tenete conto che è uscito due anni fa non ha avuto molta fortuna con la sua scansione temporale un libro che esce il 15 febbraio di due anni fa però tutte le cose pur essendo stato pensato prima della pandemia tutte le cose che erano contenute sono rimaste molto molto vive nel momento in cui è esplosa l'emergenza sanitaria io volevo dirvi che sostanzialmente una delle parole forti che abbiamo usato anche in questa per questa iniziativa editoriale che continuiamo e anche questo è un altro link che ci unisce la cura del mondo una delle parole forti è la parola curatezza la parola curatezza la riteniamo fondamentale per il discorso informazione un'informazione essere frenetica superficiale approssimativa commerciale allarmistica oppure dall'altra parte può essere un'informazione accurata che tende in qualche modo ad approfondire a far ragionare a dare degli elementi di come dire di conoscenza che poi questo è il punto vero tenete con che se la cura è l'antidoto all'indifferenza l'accuratezza è anche l'antidoto e la risposta al cinismo il cinismo è una delle cose che pervade il mondo dell'informazione il cinismo non soltanto quello dei conduttori di talk show che pensano agli ascolti e promuovono la rissa quello di confalonieri che nei talk show ci devono andare gli spessati perché così il dibattito si rianima il cinismo è anche quello dei network che vogliono generare traffico 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 per poi e quindi hanno chiaramente i conflitti noi sulle camere dell'eco ma in realtà il meccanismo è tutto un meccanismo che punta a generare traffico a trattare le persone come merci le persone diventano la merce di questo tutto questo ha prodotto un mondo che è assolutamente interconnesso però la globalizzazione lo dico l'ho detto tanti è una cosa stranota ma la ripeto la globalizzazione che produce interconnessioni di vario tipo nel senso che siamo tutti collegati perché la vicenda del gas può essere emblematica i costi dell'energia di là della questione dei venti di guerra e tutto quello che circonda in questo momento l'Ucraina una interazione che però non ha prodotto solidarietà non è cresciuta la solidarietà tra i popoli del mondo qui c'è un punto che è un punto fondamentale noi viviamo in un mondo globalizzato che però è sostanzialmente separato le varie comunità che le varie opinioni pubbliche chiamatele come volete le varie situazioni sono separate e distinte e questo è un grandissimo problema la l'accuratezza qui riprendo un ragionamento che faceva Flavio è anche una è anche un problema di come tu ti poni davanti alle cose io per esempio non sono interessato a fare lezione agli altri tutte le cose sulle quali propongo una riflessione sono cose sulle quali vorrei interloquire vorrei dibattere vorrei ascoltare anche l'accuratezza è anche un atteggiamento verso se stessi siamo coinvolti in tutto quello che avviene nel senso che noi ci troviamo di fronte a un mare di situazioni di problemi sulle quali siamo chiamati a prendere a formulare dei giudizi e avendo pochissimi elementi veri di conoscenza ed è una situazione che vale per me che vivo di queste cose e vale per la comunità quindi è un discorso che si amplia allora vado alla seconda parte del discorso e dico tre cose sostanzialmente la prima è che dopo ho realizzato questo libro abbiamo fatto un corso di alta formazione diretto coordinato dalla professoressa Laura Nota insieme al gruppo di lavoro alla scuola di psicologia dell'università di Padova dopo una convenzione fatta con l'Ateneo hanno partecipato a questo corso di formazione dieci lezioni una cosa lunga prolungata nel tempo cosiddetta formazione permanente 50 persone molti professionisti dell'informazione giornalisti professionisti giovani aspiranti comunicatori o che comunque avevano interesse verso questo campo e hanno potuto dire loro hanno potuto esprimersi sono hanno potuto commentare tutte le lezioni hanno realizzato delle tesi finali noi questo corso l'abbiamo tenuto eh lo scorso anno lo abbiamo fatto sfruttando avendo un paio di appuntamenti in prensa ma sfruttando i meccanismi della didattica distanza e questo discorso è diventato un laboratorio un'officina un luogo di ragionamento che ha coinvolto la comunità nazionale perché qui 50 erano una ventina di questi 50 colleghi giornalisti o persone o di altre province italiane moltissimi anche molti anche dal sud abbiamo fatto questa esperienza perché guardate si parla tanto di informazione di comunicazione la tradizione più incredibile di tutte è che nel tempo della tecnoscienza in cui noi studiamo qualsiasi cosa della frammentazione dei saperi dell'articolazione dei saperi da una parte la comunicazione e i meccanismi non vengono assolutamente studiati dall'altra parte manca una riflessione collettiva vera approfondita su questi temi in terzo luogo manca un approccio multidisciplinare noi abbiamo avuto un approccio multidisciplinare e multiprofessionale che è una cosa assolutamente unica nel panorama italiano rispetto ai temi della comunicazione guardate l'indicazione molti dicono ma c'entrano le tecnologie sì c'entrano le tecnologie ma c'entra il rapporto fra tecnologie e gli umani sono sempre gli umani che sono dimenticati i diritti umani anche Marco Mascia ha partecipato alle nostre lezioni il il punto che in questa interrelazione dicevo con gli umani il punto vero è che la comunicazione un po' come il dibattito sulla coscienza che c'era un centinaio di anni fa anche un po' prima la coscienza è sempre coscienza di qualcosa la comunicazione è sempre qualcosa che va inserita in un contesto comunicazione di qualcosa per quello noi abbiamo raggiunto di comunicazione e diritti sociali lavoro inclusione migrazioni tematiche riguardanti disuguaglianza tematiche riguardanti la la struttura della nostra società concludo dicendo che di questa esperienza la questa esperienza la ripetiamo quest'anno il corso di alta formazione ci sarà eh la sua seconda edizione vera svolta eh praticamente all'inizio inizierà a maggio eh le iscrizioni si aprono fra poco ma abbiamo deciso anche di lasciare una traccia perché la cosa importante nel mare di messaggi che circolano e lasciare tracce e lasciare cose che siano importanti che possano essere strumenti a disposizione degli altri e quindi sta per uscire un nuovo libro sempre collettivo sempre esperienza collettiva che abbiamo chiamato vedete qui la passione per la la passione lo capite passione sofferenza ma passione c'è anche la passione civile c'è l'impegno il tendere per la verità perché volevamo mettere in luce il fatto che invece di concentrarsi certo combattiamo le centrali della disinformazione il fake ma il vero punto logico importante è dire che cosa tra virgolette può essere per noi una prospettiva di verità in un momento così complicato come quello che stiamo vivendo concludo dicendo che il nuovo libro che con cui abbiamo raccolto l'esperienza l'abbiamo dato e lo mettiamo a disposizione come strumento per tutti quanti voi qualora ne possiate essere interessati avremo altri alzioni si intitola anticorpi di verità tenete conto anche qui non è una scelta banale anticorpi perché l'unico modo e la pandemia in qualche modo ce l'ha insegnato ce lo sta facendo vivere ce lo ha fatto vivere il problema è che tu il fake non lo combatti dopo con i farmaci che puoi prenderti dopo oppure puoi combatterlo ma i farmaci sono palliativi tu in realtà riesci a contrastare le centrali il falso e a promuovere una cultura della pace dei diritti umani dell'attenzione al sociale soltanto se generi degli anticorpi se fai nascere da dentro le risorse che ti consentono di poterti muovere in questo mare immenso che è la comunicazione oggi grazie 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 davvero Roberto anche questa necessità di generare grazie davvero e e di generare anticorpi anche questa è un'altra come dire è un altro elemento paradigmatico credo per la nostra riflessione sul sul che fare ecco che che seguirà questa parte ora chiamo Enza Pellecchia Enza ci senti ci sono ci sono mi sentite sì Enza è la coordinatrice nazionale della rete italiana delle università per la pace che tra l'altro cini anche questo nostro incontro a te la parola Enza grazie grazie a voi buongiorno a tutte e a tutti ho ascoltato con molta intenzione e con molta attenzione e anche molta intenzione non era un lapsus molta intenzione di mettere a frutto questo tempo molta intenzione di fare passi avanti muovendo da gli appunti densissimi di stimoli che Marco Mascia mi ha fatto avere su cui è stata costruita la giornata la giornata di oggi io sono qui come coordinatrice della rete delle università italiane per la pace che è una rete promossa dalla CRUI la conferenza dei rettori delle università italiane è nata nel 2019 ha fatto la sua prima uscita pubblica a dicembre del 2020 adesso aderiscono 60 Atenei è una realtà che sta diventando importante sempre più lo diventerà questo è certamente nelle nostre intenzioni e nell'entusiasmo che ci anima sono qui anche come direttrice del centro interdisciplinare scienze per la pace dell'università di Pisa e sono qui come cittadina e come ci tengo anche a esplicitare questa mia attività e questa mia sensibilità e come attivista del movimento italiano per il disarmo nucleare attivista della campagna Italia Ripensaci che intende sollecitare lo Stato italiano alla ratifica del trattato per la messa al bando delle armi nucleari e se richiamo oggi questo ultimo aspetto con cui mi piace qualificarmi e presentarmi è perché oggi più che mai dobbiamo ricominciare a prendere seriamente se mai ci è stato possibile non prenderlo seriamente in qualche momento ma oggi più che mai dobbiamo ricominciare a prendere seriamente la questione del disarmo nucleare dell'impegno per il disarmo nucleare solo ieri Putin ha in maniera esplicita formulato la minaccia nucleare in questa escalation non solo verbale che a cui stiamo assistendo in questi giorni grazie tantissimo per gli spunti che ci sono stati io aggiungerò qualche riflessione leggendo gli appunti che Marco Mascia mi aveva fatto avere come possibile guida per una riflessione una discussione condivisa me ne sono segnati alcuni che mi hanno particolarmente colpita allargare il nostro sguardo rigenerare un nuovo movimento di pace assumere come bussola diritti umani pace positiva non violenza attiva riflettere sulla crisi di fiducia nella possibilità di cambiare il mondo scegliere tra essere vittime o artefici della nostra esistenza individuale e collettiva eccetera ma più di tutti mi ha colpito il riferimento al riflettere sulle cose che si stanno facendo per valorizzare le esperienze concrete perché l'esempio è contagioso e in quest'ottica anche ripensare i percorsi educativi ecco una delle cose che noi ci proponiamo come rete delle università italiane per la pace ci proponiamo di fare nelle università è proprio questo ripensare i percorsi educativi o in una fase intermedia contaminare tutti i curricula con degli insegnamenti che abbiano il loro cuore nella protezione nella salvaguardia nella promozione dei diritti umani nella trasformazione dei conflitti nella valorizzazione della costruzione della pace con mezzi pacifici a tal fine stiamo realizzando una mappatura delle esperienze che ci sono nei 60 atenei aderenti e sta venendo fuori un sapere prezioso un sapere che già esiste che fino ad ora in molti casi è stato un sapere di nicchia un sapere quasi coltivato da chi ha avuto ruoli marginali nelle università a parte esperienze come l'università di Padova dove da 40 anni esiste il centro papisca o come l'università di Pisa dove da 20 anni esiste il centro scienze per la pace e nonché un corso di laurea titolato proprio scienze per la pace cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti ebbene dietro queste grandi esperienze pilota che sono che hanno una maggiore visibilità c'è una miriade di piccole esperienze di insegnamenti sparsi in vari corsi di laurea nei vari atenei che noi cercheremo di far emergere di mettere a sistema e cercheremo soprattutto di promuovere laddove non ci sono l'attivazione di insegnamenti in corsi di laurea che possono appunto accogliere questo tipo di insegnamenti insegnamenti che abbiano nella pace e nella trasformazione dei conflitti il loro focus e tutto questo con una particolare attenzione alla riflessione della responsabilità sociale degli scienziati e delle scienziate quindi proprio per porre al centro dell'attenzione e l'interrogativo che cosa io come ricercatore o ricercatrice come studioso di una qualunque disciplina nell'ambito dell'accademia posso fare per contribuire con il mio insegnamento con il mio studio con la mia ricerca alla costruzione di una società pacifica quindi questo per dire alcuni percorsi che noi intendiamo comunque coltivare e implementare sempre di più voglio anche aggiungere per dare un contributo a questo dibattito che nei giorni scorsi proprio sulla spinta della sollecitazione che mi è arrivata dagli appunti che menzionavo prima ho ripreso in mano due libri che ho trovato particolarmente densi di idee e il libro di Elena Pulcini una filosofa purtroppo scomparsa l'anno scorso e questo libro si intitola La cura del mondo e poi il libro di una pedagogista che si chiama Luigi Gina Mortari e il libro si intitola La politica della cura voglio condividere con voi alcune delle riflessioni che mi sono parse più centrate di questi due di questi due libri la prima riflessione è questa si tratta di capire non tanto cosa dobbiamo fare ma su che cosa possiamo contare cioè su quali potenzialità psichiche emotive antropologiche possiamo contare per correggere le patologie dell'età globale e per ricomporre le divaricazioni tra individualismo e comunitarismo questa è la riflessione che costituisce il cuore del libro di Elena Pulcini sulla cura del mondo e Elena Pulcini costruisce una sequenza che è la sequenza tra paura vulnerabilità condivisa responsabilità intesa non come responsabilità per qualcosa ma come responsabilità verso qualcuno e cura come pratica voglio partire dal tema della paura che è stato ripetutamente evocato quasi per dire d'accordo la paura ma non è soltanto questo soffermiamoci però sul ruolo positivo della paura perché c'è una paura che immobilizza e non è certamente la paura che dobbiamo coltivare ma c'è una paura che ci può aiutare a prendere coscienza della nostra vulnerabilità e prendere coscienza della nostra vulnerabilità implica anche un pensarci come soggetti profondamente relazionali questo tema della paura costruttiva della paura che attraverso il sentimento della vulnerabilità e della vulnerabilità condivisa genera poi di responsabilità e senso di appartenenza alla comune famiglia umana e non a caso al centro delle riflessioni di Gunther Anders che è stato uno dei filosofi che più di ogni altro ha riflettuto sulla questione delle armi delle armi nucleari ebbene questo sentimento di vulnerabilità se interiorizzato e poi agito come spinta la costruzione di un mondo in cui ci assumiamo reciprocamente gli uni degli altri la responsabilità può produrre dei risultati molto importanti e molto positivi e tuttavia deve declinarsi poi nel concreto delle azioni nel concreto delle azioni di cura è stato più spesso abbastanza spesso negli interventi precedenti sottolineato l'importanza di uscire dalla astrazione quindi dare concretezza alle nostre riflessioni e anche alle nostre azioni io credo che alla base del senso di impotenza molto diffuso che c'è e che probabilmente è alla base di quel sentimento di risacca quasi un rifluire un percepirsi impotenti di fronte ai cambiamenti del mondo rispetto a questi scenari così enormi uno dei fattori sia proprio questo non misurarsi con azioni concrete che nelle nostre comunità che nelle nostre realtà quotidiane possono poi produrre dei risultati importanti ecco io chiedo scusa se purtroppo sono passati dieci minuti se riesci a concludere ho capito mi ero fatta prendere all'entusiasmo scusami no chiedo cura perché abbiamo dei tempi ovviamente saltati a causa dell'Ucraina ma hai fatto hai fatto benissimo va bene quindi questo tema della vulnerabilità questo tema della della cura come cura concreta io richiamerei l'attenzione sul elaborare progetti che riguardano magari azioni piccole ma concretamente declinabili in cui sia possibile misurare la percentuale di successo il tasso di successo perché questo aiuta le persone a sentirsi sempre più capaci in una direzione di empowerment delle persone comuni partecipare a progetti di cambiamento i cui esiti siano poi concretamente misurabili è un modo per sperimentare la pratica della cura e gli effetti della pratica della cura grazie 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 davvero Enza grazie anche per questa sì richiamo alla la certezza delle delle pratiche dei percorsi che possono aiutare a invertire ecco questa condizione di crisi di responsabilità e di impegno che stiamo vivendo ed ora la parola per concludere questa parte a Gabriella Salviulo direttrice del centro di Ateneo per i umani intorno in Popisca di Padova prego grazie grazie a tutti per i vostri contributi di oggi io me ne esco tra poco già molto più ricca di come sono entrata e chiedo a Luca se mi può aiutare con le slide sono slide di immagini che hanno l'obiettivo di ridurre il mio tempo quindi non preoccupatevi allora quando Marco mi ha chiesto di intervenire io ho fatto una piccola lezione dico beh interverrò anch'io come tutti gli altri con la propria cassetta degli attrezzi la mia però è una cassetta degli attrezzi che ha bisogno di essere inclusa in questo contesto perché io ho una cassetta degli attrezzi che è sufficientemente riempita con contenuti geomineralogici ma povera e per questo anche che sono al centro diritti umani per crescere in questa consapevolezza dei contenuti scientifici invece di nenti l'area dei diritti umani quindi in questo senso io sono qui non per fare qui al centro diritti umani per assolvere una funzione ma sotto sotto egoisticamente per crescere in consapevolezza eccetera e naturalmente consapevole tra quello che studio io e i diritti umani c'è ci sono dei nessi straordinari preoccupanti e che chiamano al senso di responsabilità e lì ho messo solo lì un'immagine terrificante di miniere a cielo aperto che potrebbero avere in qualsiasi paese dell'Africa diciamo allora con la slide successiva ma solo in maniera metaforica mi sono chiesta che cosa propongo dove siamo allora dal punto di vista geologico siamo nell'era dell'antropocene quindi come giustamente ha accennato Elena prima è l'era in cui una sola specie per dirla in maniera evoluzionistica l'homo sapiens ha governato e governa e distrugge anche tutte le altre specie quindi il valore anche metaforico che voglio dare a solo questa frase è evidente e poi un'altra cosa che voglio segnalare proprio metafora è che contrariamente a tutte le altre aeree geologiche dove i geologi in maniera assertiva dicevano sì questa discontinuità che sancisce il passaggio da un'era geologica precedente alla successiva per quanto riguarda l'antropocene non c'è assoluta concordanza di vedute solo accenno perché uno dice no ma lo facciamo iniziare quando l'uomo è diventato sedentario un altro dice ma no quando è cominciata la rivoluzione industriale un altro ancora dice ma no quando è stata lanciata la prima bomba atomica qual è il valore metaforico che invece io voglio dare a questo certo non discutiamo è che è il momento che tutti voi avete detto benissimo dell'incertezza della vulnerabilità del disorientamento perché per il geologo è vero che è un dibattito ma è un disorientamento possiamo passare alla successiva perché io vorrei concentrare ecco voglio concentrare la vostra attenzione sul parlando di una piccolo segmento di cui si parla poco e cioè quali sono i problemi fare cenno ad alcuni dei problemi legati allo sfruttamento delle risorse minerarie proprio perché come accennavo prima e possiamo andare la estrazione delle risorse minerarie di cui tutti noi alla fine di processi molto complessi godiamo dicevo il nesso tra questo e la violazione dei diritti umani è ovviamente conclamata ma vedete in queste immagini senza tanto attirarla in lungo che sfruttamento o meglio l'uso e delle miniere in maniera incauta e sana sfrutta il lavoro infantile depaupera flore e fauna genera guerre guerriglie guerre civili e poi genera e possiamo andare alla prossima diapositiva genera dei percorsi anche negali nel trasferimento di queste risorse ora stante questo che è un problema cosmico e grazie vorrei concentrare la vostra attenzione su che cosa fa e come si pone l'unione europea su queste cose allora questo è un bellissimo documento che magari se uno voglia può andare a vedere ogni tre anni dal 2001 possiamo andare anche alla successiva così andiamo veloci l'unione europea stila una lista di serie prime critiche il termine critico è stato usato più volte in varie accezioni oggi e questa lista viene stilata dicevo ogni tre anni che sono critiche attenzione la duplice cosa per noi perché da una parte sono essenziali per il nostro sviluppo tecnologico e vorrei dire anche per la nostra quotidianità computer cellulari eccetera per banalizzare ma sono critiche perché è elevato il rischio di approvvigionamento perché le le minie si trovano in paesi non solo extraeuropei ma anche paesi instabili dal puntista politico allora prima si parlava di repubblica centrafricana la repubblica democratica del congo e così via non andiamo su quali sono sti elementi perché a quest'ora è terribile parlare di chimica possiamo andare alla successiva e questo mi permette di dire guardando queste due immagini l'immagine in alto a sinistra ci fa vedere quali sono i paesi che offrono per ragioni geologiche e quindi fisiche indipendenti dalla civiltà le maggiori risorse di critical raw materials così si chiamano e invece nella grafico quali sono i paesi che offrono la maggiore disponibilità di critical raw materials per l'unione europea se guardiamo velocemente come giustamente Flavio mi facendo perché dice è tardi uno dice beh beh stessa cosa non c'è differenza e invece io certamente accogliendo l'amor di sintesi vi faccio notare che mentre nella figura in alto della Repubblica Democratica del Congo rispetto alla quale non spendo parole perché credo che molti di voi sappiano che è uno dei paesi più ricchi di risorse minerarie è uno dei paesi più poveri del mondo allora vediamo che nella grafica di destra scusa la Repubblica Democratica del Congo non compare e dove è andata è la successiva ci fa vedere in maniera molto schematica questo è riferito a uno degli elementi che è il cobalto che ci fa vedere che in Europa la materia prima non arriva perché si è dei percorsi completamente in particolare la materia prima viene trasferita in in Cina eccetera in sud-est asiatico viene lavorata e ritorna in Europa come prodotto finito tipicamente i nostri computer tanto per banalizzare o i nostri cellulari questo è un punto di riflessione che a me fa sempre riflettere andiamo pure avanti e rispetto alla quale io credo ci sia proprio motivo di riflessione come sarà la proiezione mi scuso per la velocità di questi concetti in futuro è un po' grigia perché nel contesto globale la richiesta la domanda di materie prima sarà crescente per queste ragioni crescita demografica industrializzazione questo punto è interessante in cui solo qualche volta si fa cenno e cioè che il processo di decarbonizzazione a cui tutti aspiriamo richiederà un incremento nella necessità di materie prime assolutamente enorme e lo vedremo con la slide successiva ecco qua per esempio giusto che si parla di dell'importanza delle auto elettriche eccetera due elementi fondamentali in questo processo sono il litio e il cobalto le proiezioni no un attimo solo Luca si può tornare indietro va bene insomma perché c'erano due cifre che mi faceva piacere che vedeste che per esempio nel 2050 se la memoria me lo dice Luca se sta dicendo i numeri eccolo qua lo sto finendo nel 2050 sarà necessaria una quantità di litio per esempio 60 volte rispetto a quella che stiamo utilizzando oggi cosa dice qui che cosa si fa a livello personale non molto e già mi allontano quello che Luca può andare con l'ultima slide quello che si può fare è lavorare e ragionare sull'incremento e il riciclo che vedete a sinistra non è di lungo è basso o qua o addirittura nullo proprio per alcuni elementi strategici e io vi ringrazio grazie Gabriella per questa immersione in un pezzo di realtà perché la nostra relazione col mondo passa attraverso questi elementi diventando sempre più strategici e sempre più critici ovviamente siamo un'ora diciamo mezz'ora in ritardo rispetto al nostro calendario l'abbiamo persa all'inizio inevitabilmente ma proseguiamo con il nostro programma prendo la seconda sessione diciamo del nostro del nostro seminario e nel attorno al quale adesso dedichiamo la la domanda come perché dobbiamo ricominciare a prenderci cura del mondo e cosa succederà se non lo faremo abbastanza quindi la parola la passo subito a Laura nota grazie grazie inizio ringraziando Marco Mascia e Flavio Lotti per questo per questo invito per questa giornata per aver messo assieme linee diverse ma anche persone che occupano ruoli diversi quindi interdisciplinarietà e intersettorialità che sono la via maestra per affrontare quelli che sono già stati trattati e che qualcuno in letteratura chiama i wicked problem cioè i problemi malvagi i problemi che richiedono l'unità di trovare delle vie che sono diverse da quelle che abbiamo affrontato fino ad ora perché sembrano non funzionare gli stimoli sono interessanti anche io ho preso tanti appunti è un processo rigenerante quello di questa mattina e mi sento di sottolineare alcune parole Marco ci invitava a un nuovo paradigma assolutamente necessario Flavio Lotti l'importanza del pensiero critico della riflessione assolutamente la relazione trasformativa ci ricordava Tosolini Beppe Giulietti l'opposizione e l'indifferenza l'assessore Benciolini l'importanza di dignità l'eterogeneità dare voce alle persone Roberto l'accuratezza contro il cinismo il cinismo che impera nella nostra vita quotidiana e Gabriele ci ricordava il disorientamento di fronte alle situazioni che ci ha illustrato un filo rosso che ci aiuta e che ci pone domande stimoli per andare avanti io mi pongo in queste riflessioni indosso le vesti degli studi che sto facendo in materia di progettazione professionale di futuro delle giovani generazioni e vi devo dire che nelle parole anche di introduzione del seminario la giornata la morte dei sogni c'è scritto i documenti per diverse ragioni incuria sfruttamento individualismo competizione salvaggia direi che l'incuria vorrei sottolineare l'incuria l'incuria professionale di chi ha ruoli direttivi di chi insegna di chi gestisce di chi offre servizi di chi prende le decisioni perché agisce per la progettazione professionale dei giovani senza porsi domande senza studiare senza prepararsi e con superficialità e quindi l'orientamento e la progettazione professionale stanno diventando e lo sono già strumento cinghia di trasmissione delle disuguaglianze mi è capitato di vedere giovani del liceo classico piangere dopo azioni sedicenti di orientamento e se piangono quelli del liceo classico mi chiedo che cosa accade nelle altre nelle altre scuole e allora qualche dato il 23% della popolazione è NET NIT chiamiamoli come volete da alcune ricerche del laboratorio Larios il 33% di studenti di scuola superiore pensa che non potrà realizzare la propria professione ideale il 10% pensa che non potrà assolutamente avere il lavoro dignoso interrogati sul loro futuro una serie di studenti ma ci sono state le parole delle due studentesse del servizio civile ci dicono che non vogliono sapere che cosa accadrà in futuro perché non vogliono rovinarsi il presente che il futuro non è a far loro che hanno paura del futuro ed è terrificante da parte di ogni generazione se si chiede se hanno aspettative e aspirazioni il 25% ne pone una e fra questi il 6% e fare solo e quindi abbiamo idea di come queste persone come fanno a pensare al loro futuro passiamo alle preoccupazioni alle paure il 75% dei denti che abbiamo coinvolto pensa al proprio futuro in modo individualistico narcisistico non è colpa di queste giovani generazioni non è questo quello che sto dicendo ma è terribile terribile hanno paura di fare le scelte sbagliate di rimanere disoccupati all'altezza delle situazioni ma guardano a loro stessi difficilmente solo il 9% si preoccupa dei diritti umani delle discriminazioni delle disuguaglianze un 10% delle tematiche ambientali e aggiungerei altrettanto interessante che sempre in un'altra ricerca con adolescenti e giovani adulti abbiamo potuto constatare che faticano a definire l'idea di globalizzazione pensano che sia lo scambio di comunicazioni in internet a vederne il dark side hanno in mente la narrativa dominante edulcorata che impedisce di vedere gli effetti sulle disuguaglianze la loro stessa vita lo stesso vale per la tecnologia non riescono a vedere che la tecnologia ha anche il potere di invalidare il lavoro di costruire la catena del disvalore del lavoro che trasforma il lavoro in microtasca con pagamento a cottimo l'esternalizzazione e la precarizzazione non se ne rendono assolutamente conto non sanno che cosa siano le filiere a cui avete fatto riferimento che comportano l'abbattimento dei diritti delle persone degli animali e dell'ambiente e assolutamente non entra nel panorama delle riflessioni la migrazione le vittime di tortura la povertà crescente e noi che cosa facciamo davanti a tutto questo ecco quello che facciamo è un'azione mistificatoria manipolativa di orientamento per cui proponiamo corsi di soft skills per adattarsi alle schifezze che verranno offerte o proponiamo la profilazione resterà sostanzialmente la loro vulnerabilità e li intrappolerà a vita oppure proponiamo la ricerca dell'uomo giusto al posto giusto che è precariato ad oltranza oppure insegniamo come sostenere un colloquio per vendersi bene senza aiutare le persone a comprendere con chi avranno a che fare che sono molto più esperti di loro della vendita di cinismo oppure insistiamo con inventare degli interessi magari degli anni settanta comprendere che non hanno più ragione ad esistere perché il lavoro non è più quello di una volta oppure ancora insistiamo col marketing delle università e delle scuole testificando un servizio alla persona con un servizio all'istituzione noi facciamo un servizio all'istituzione non un servizio alla persona indifferente alle aree reali necessità e alle sofferenze dei giovani oppure proponiamo video di imprenditori che dicono ai giovani che per avere accesso bisogna essere brillanti acuti curiosi impegnati attenti flessibili pronti a considerare le richieste pronti a dare il massimo pronti a dare il posto del lavoro prima dell'imprenditore stesso e ad andarsene dopo di lui ovvero l'idea del lavoratore ideale che già di per sé è un pugno sullo stomaco ma è ancora sacrificante perché i dati sul mondo del lavoro ci dicono chiaramente che anche questo non servirà si può essere licenziati ugualmente queste attive fanno venire i brividi ed è quello che comporta alcuni pochi purtroppo una minoranza rispetto a quello che vediamo che l'orientamento è cinghia di disuguaglianza è un orientamento collaborazionista dell'ingiustizia del cinismo e dello sfruttamento vi ringrazio scusate l'enfasi di avermi questo spazio per dire probabilmente insieme a tutti voi che prendersi cura del mondo significa dire basta anche a queste cose prendersi cura del mondo significa prendersi cura del futuro dei giovani dei loro progetti delle attività di orientamento che non può essere che un'attività di qualità che deve di consapevolezza critica di riflessività di tempo di pazienza di laboratori abbiamo potuto constatare che facendo laboratori su queste cose la riflessività di giovani si evolve e riacquistano e riacquistano il senso del futuro cominciano a ripensare al futuro come hanno fatto le nostre due giovani ragazze con la consapevolezza la riflessività il tempo la pazienza e strumenti per poter lavorare su questo abbiamo potuto sperimentare anche con con gli adulti come diceva prima Roberto dando nutrimenti critici permettendo alle persone di riflettere di co-costruire assieme si possono generare nuovi progetti e quindi io penso che da queste alleanze da questa bellissima mattinata non possiamo che prendere la forza per andare assolutamente in questa direzione quindi grazie 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 Laura grazie davvero moltissime proposte idee riflessioni molto importanti che che stanno anche cementando un pensiero credo comune un orientamento Paola Paola Milani ecco Paola Milani docente di pedagogia generale sociale e di pedagogia della famiglia dell'Università di Padova prego grazie mille di questo invito soprattutto per la bellezza di essere qua ad ascoltare grazie di cuore grazie anche alla direttrice e a tutti voi che avete organizzato e mi spiace adesso mettere un altro tassello perché mi sembra che ci sia già così tanta carne al fuoco preziosa delle cose che tanti colleghi hanno già detto e come sia già così evidente che l'interdisciplinarità è il punto focale di questo lavoro la possibilità di mettere insieme i nostri saperi e le nostre esperienze allora il pezzettino che posso portare io è quello dell'educazione la cura è intesa è stata città buongiorno assessora grazie di tutto la cura è già stata citata come un termine che si declina in tanti modi tra cui appunto la cura come educazione educazione che a sua volta un termine grandissimo che dice tante tante ma qui lo intendo proprio come cura delle nuove generazioni e di coloro soprattutto insegnanti e genitori che accompagnano la crescita delle nuove azioni perché è un tema che mi pare importante mettere sul tavolo oggi perché sapere in queste discipline si è espasso e naturalmente negli ultimi anni soprattutto grazie allo sviluppo delle neuroscienze e ci sono due o tre idee che sono chiarissime ormai alla portata alla portata di tutti e che hanno raccolto un'evidenza empirica enorme la prima di queste idee è che la povertà impatta sulla formazione la persona umana e soprattutto sulla formazione di queste skills delle capacità in maniera determinante i bambini che crescono in ambienti affetti di forme diverse da povertà imparano molto meno ed entrano in quello che è definito dalla comunità europea il circolo dello svantaggio sociale che è il circolo entro il quale poi le persone rimangono schiacciate e non riescono appunto non avendo successo tra virgolette nell'esperienza scolare eccetera non riescono ad accedere a una vita piena e dignitosa l'altra nozione chiave è che tutto questo accade molto presto abbiamo contezza del fatto che i primi mille giorni i primi anni di vita hanno un impatto veramente determinante nella crescita umana quindi abbiamo un'altra responsabilità rispetto a quello che si fa presto e precocemente con i bambini per garantire a loro di arrivare soprattutto all'ingresso dell'esperienza scolica in condizioni di pari opportunità e perché non entrino proprio in questo circolo dello svantaggio sociale cos'è che è importante per la prima volta da da moltissimi anni sembra che la politica si sia accorta di tutto questo e abbiamo delle nuove strategie che sono proprio ai blocchi di partenza la prima importantissima la Ciai Garanti Europea la prima volta che il Parlamento Europeo insieme una una strategia politica per tutti i 27 paesi dell'Unione Europea tesa a garantire esigibilità a quattro diritti fondali dei bambini il diritto alla salute il diritto all'educazione il diritto all'housing e tutto quello che riguarda la non tetto sopra la testa ma riguarda molto anche tutti i bambini che vivono fuori famiglia in affido familiare in adozione eccetera e la alimentazione il diritto all'alimentazione su questa Ciai Garanti Europea sta partendo una grandissima un grandissimo lavoro di tutti i 27 paesi in Italia sono al lavoro Dipartimento per le politiche per la famiglia il Ministero delle politiche sociali e da marzo avremo questo piano nazionale per la Garanti che durerà dal 22 al 30 quindi per il prima volta in Italia una politica finanziata lungimirante tende a togliere dalla povertà i bambini e a garantire questi quattro diritti fondamentali avremo un lavoro enorme da fare perché tutti i tasselli di questa grande ma possono funzionare sia noi nei corsi universitari e nella ricerca sia nei servizi e in tanti altri contesti la cosa importante che ci tengo a dire è che un'altra politica che in Italia è fondamentale ed è stata raccontata qui mi permetto di dirlo perché ci sono gli esperti dell'informazione ed è stata raccontata in maniera molto riduttiva e forse anche distorta dalla è la politica del reddito di cittadinanza il reddito di cittadinanza ha due grandi gambe il rapporto tra i poveri e il mondo del lavoro e l'altra gamba è quella del rapporto tra le persone più povere e il mondo dei sociali l'idea di base è che se uno non arriva al lavoro è perché ci sono dei problemi prima che attraverso la costruzione di una rete sociale possono essere risolti e qui è stata fatta una norma una parte della norma dice che le persone che accedono il reddito di cittadinanza devono avere devono poter costruire con i servizi sociali del loro territorio un patto di inclusione mi fermo un attimo se ho se ho tempo su questa cosa perché perché è molto importante e credo un'idea forte che possa essere trasversale tante altre questioni è molto importante che in questa norma sia stata introdotta l'idea che chi ha accesso a un beneficio economico garantito dallo Stato ha bisogno non solo del beneficio economico ma ha bisogno anche di un progetto di vita attraverso il quale quel beneficio economico possa aiutarlo a modificare le dizioni che hanno portato al bisogno economico quindi non è un ricatto il fatto che il povero poi debba entrare in oggetto ma è un'assunzione di responsabilità da parte dello Stato di garantire alle persone che vivono in condizione di povertà un accompagnamento tutti quei fronti che tipicamente vanno a costruire le condizioni di povertà l'altro aspetto fondamentale è che nel reddito di cittadinanza si dice che sono responsabili dei patti di inclusione sociale non le persone povere ma i servizi gli operatori dei servizi che devono garantire questi patti e quindi nel patto un meccanismo chiaro è che si chiedono si propongono al povero degli impegni ma si impegna il servizio a mettere in campo dei sostegni e quindi c'è una piena reciprocità tra ciò che si propone alla persona in condizione di povertà e il lavoro dei servizi cioè il punto chiave è che non possiamo pensare che le persone che vivono l'esperienza della povertà cambino se non costruiamo un cambiamento a livello sociale e se non lavoriamo per cambiare le condizioni della povertà ecco questo è un grandissimo lavoro in cui anche noi come Università di Padova in particolare come Dipartimento FISPA siamo pienamente coinvolti la diciannove gestiamo un corso per il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali di formazione per i case manager dei servizi che si occupano di questi batti con le persone povere abbiamo già formato due mila quattrocento e e operatori che lavorano in tutti i servizi della povertà in tutto in tutto in tutto il paese e quindi qui forse l'ultima cosa se ho ancora un attimo quello che ci tengo a dire è che questo tassello di mettere a disposizione la conoscenza e la ricerca per garantire l'attuazione delle norme è un tassello che è molto nelle nostre mani con Università e il problema spesso non è che manchino le norme delle volte sì ma spesso è in questo gap enorme che c'è tra la norma e la sua attuazione soprattutto un'attuazione giusta ed equa e non sia soffocata dai divari territoriali in tutto in tutto il paese e quindi anche per per questo e per l'esperienza di implementazione del programma PIPI che è un grande programma che stiamo portando avanti da più di dieci anni come Dipartimento FISPA ed è una grande nazione di accompagnamento alla genitorialità più vulnerabile proprio per far sì che i bambini non entri la vita dentro il circolo dello svantaggio sociale ma per spiazzarlo il più precocemente possibile questo svantaggio sociale questo circolo proprio per questa esperienza del reddito di cittadinanza e del programma PIPI quello che vorrei dire è anche che ho capito in questi anni profondamente da un po' quello che vorrei portare qua stamattina che come università possiamo giocare un ruolo enorme nella costruzione di un circolo positivo che va dalla ricerca all'azione dei servizi per il tramite della formazione e che possa arrivare a costruire nuove polisi nuove politiche che permettono poi a loro volta di alimentare le pratiche cioè la nostra ricerca può essere una ricerca non solo euristica come certamente deve essere ma può essere una ricerca partecipativa trasformativa ingaggiata che veramente riesca ad incidere sulle politiche e soprattutto sul modo in cui sono attuate le politiche non c'è il tempo ma Pippi per esempio era un programma di ricerca nel 2001 quando è partito oggi è un laps un livello essenziale di protezione sociale riconosciuto dalla dalla legge non perché noi siamo bravi abbiamo insomma tante cose da migliorare ma perché abbiamo sperimentato questo modello di ricerca grazie mille grazie grazie Paola grazie Paola un altro elemento ma anche percorsi concreti che possono contaminare tante altre strade e difficoltà che dobbiamo aggredire Jean Fabre darei Jean mi senti? Sì sì ti sento Jean è collegato da Ginevra esperto delle Nazioni Unite già vice direttore degli UNDP prego Jean a te va beh allora buongiorno a tutti e tutte io riparto da quello che diceva Laura Notta la paura del futuro e allora vorrei cominciare con una buona notizia da dare a tutti perché vediamo le cose che non vanno bene ma non vediamo quello che va bene il mondo di oggi va meglio che mai ed è molto meglio attrezzato per affrontare qualsiasi sfida di quando sono nato poco dopo la seconda guerra mondiale eppure dico questo però ripeto da anni che faccio parte della primissima generazione nella storia umana che consegna ai suoi figli una situazione peggiore di quella che ha ereditato dai propri genitori peggio ancora faccio parte della generazione che ha spinto i suoi figli e nipoti sull'orlo di un precipizio in cui sarà molto difficile non cadere perché siamo dinanzi ad un enorme paradosso da un lato abbiamo concepito tecnologie straordinarie in tutti i campi che hanno cambiato le società anche se in modo disuguale è intresciato tutti i paesi le conoscenze sono aumentate in modo fenomenale la ricchezza mondiale media per abitante è alle stelle sufficiente per assicurare a tutti una vita dignitosa se fosse equalmente repartita va bene si vive molto più a lungo di prima dappertutto e abbiamo la generazione più istruita che ci sia mai stato produciamo più alimenti di quanto la popolazione mondiale ne può consumare e abbiamo tutte le istituzioni per dialogare cooperare e abbiamo pure la dichiarazione universale dei diritti umani della quale abbiamo parlato dunque dovremmo con tutto ciò poter sradicare guerre povertà fame e molte malattie vivere tutti decentemente da decenni eppure abbiamo due miliardi di persone che non hanno installazioni per lavarsi le mani a casa un miliardo che non ha accesso all'elettricità 800 milioni che non hanno accesso né ad un cesso né a una fonte d'acqua pulita e posso andare avanti così ci sono degli scarti delle disuguaglianze anche in Italia milioni di persone hanno delle difficoltà a sbarcare il lunario 50 milioni di abitanti vivono in zone urbane scosse da conflitti armati il 25 del mese precedente del mese gennaio il consiglio di sicurezza dell'ONU si è riunito per discuterne ci sono tantissimi problemi non risolti in Italia e in Europa la disoccupazione il carovita le strutture ospediali inadeguate l'insicurezza eccetera eccetera niente di questo a casa per caso o per fortuna abbiamo fatto o stiamo complici di scelte spensierate sbagliate e a volte ciniche e l'abbiamo fatto per decenni invece di strutturare le nostre produzioni e scambi per soddisfare i bisogni essenziali di tutte le persone abbiamo sfruttato questi bisogni per fare dei profit che sono accaparati da una minoranza io ho dedicato una vita intera alla lotta alla fame e faccio parte di una generazione che in realtà si è abituata a ricevere le notizie dei morti per fame e povertà tutti i giorni senza fare quello che era necessario né quello che potevamo fare nove milioni l'anno di morti di fame e povertà un bambino un bambino ogni sette secondi e allora che cosa abbiamo messo nella nostra vita il fatto che la vita non ha valore se la possiamo lasciare morire senza fare tutto il nostro possibile a maggior ragione può essere sfruttata drogata rubata pure stuprata e dunque non facendo quello che potevamo fare non solo all'interno ma anche a livello mondiale non abbiamo fatto vivere la solidarietà e dunque non abbiamo fatto crescere come direbbe Francesco Cavalli gli anticorpi ma gli anticorpi a che cosa a una strage di valori e dunque se c'è strage di valori non c'è da stupirci che il mondo vada anche con l'incapacità di affrontare la realtà delle notizie quello che si diceva un poco prima mi sembra che Gabriella che ne parlava dell'impatto enorme della recente crescita demografica che senza precedente ci è voluto fino al 1804 per avere il primo miliardo di abitanti sulla terra da allora la crescita è stata talmente forte che siamo diventati 8 miliardi e ci vorranno solo 15 anni per raggiungere un altro miliardo con questo siamo entrati di fatto anche quando non abbiamo pensato nell'era dell'interdipendenza mondiale il numero di persone combinato con i modi moderni di produzione e di consumo ci fa toccare i limiti ecologici del pianeta dunque dobbiamo curare in modo diverso certe cose e non dare per scontati quelli che sono diventati beni comuni dell'umanità perché verrà mancare l'acqua dolce combustibili certi minerali metalli anche come lo diceva un poco prima Gabriella mi pare i metalli di cui abbiamo bisogno per le nuove tecnologie e dunque tutto questo vale per per il clima eccetera non si può più risolvere certi problemi prendendo delle decisioni solo all'interno delle frontiere di qualunque paese che sia dell'Italia o altri paesi dunque ciascuno deve fare i conti con questa realtà nuova che è quella che è sorta nella seconda parte del ventesimo secolo e che ci accompagnerà per sempre nel ventunesimo secolo e dunque a questo punto ciascuno dei paesi deve pure avere la capacità di fare la sua parte e dunque noi dobbiamo cooperare a livello mondiale per risolvere i problemi interni ai nostri paesi dovunque ci troviamo ed è il momento di eliminare quel concetto di competizione tra tutti che è stato messo nel marmo della Costituzione nel trattato costituzionale che unisce i paesi della cosiddetta Unione Europea è Unione ma all'interno siamo tutti in competizione in linea con gli altri e per di più l'Unione ci costringe a introdurre la concorrenza anche laddove non vorremmo farlo da quest'anno dall'anno scorso per essere preciso in Francia sono stati costretti a mettere in competizione sulle ferrovie varie compagnie che gestiscono i treni perché così si rispetta la concorrenza cioè siamo matti perché normalmente quello che deve prevalere nella nostra epoca è la solidarietà e tutti questi esempi ci dovrebbero far riflettere noi dobbiamo cominciare anche a detettare nelle sottilezze di quello che accade il nuovo mondo che appare ad esempio si sono resi conti in Albania che negli ultimi tre anni arrivano sempre meno uccelli migratori quest'anno nella laguna di Shvaka mancano ben 9.000 uccelli acquatici rispetto all'anno precedente ne sono rimasti solo 25.000 cioè un quarto in meno del solito è una cifra enorme che è dovuta al cambiamento climatico e la nostra assenza di cura provoca una distruzione in radiodiversità come è stato menzionato ma sono in valo la sicurezza alimentare il livello del mare che crescerà e che mette a grandissimo rischio più di 800 milioni di persone che vivono nelle zone costiere sono anche in valo i grossi problemi di acqua con lo scioglimento di molti ghiacciai il fatto che nel 2025 fra tre anni solo quasi due miliardi di persone saranno già sottoposte a carenze idriche severe il degrado del suolo ha già ridotto la produttività del 23% della superficie terrestre globale e l'ONU prevede che ci saranno più di 200 milioni di migranti per il clima del 2050 e dunque dobbiamo prepararci ad accogliere queste persone se tardiamo a mettere la cura al centro delle nostre società dunque il rimedio importante è la cura noi dobbiamo capire che anche quando abbiamo lo sguardo messo su la pandemia nell'anno 2020 sono sorti in Italia 1420 climatici estremi che si aggiungono alla frequenza dell'ondante di calore che già un grado in più di calore addizionale aggiunge il 3% di morti tra i più di 75 anni dunque chiedo scusa Gianna stiamo con le spalle al muro però non dobbiamo scoraggiarci perché siamo attrezzati per affrontare questi problemi dunque mettiamo la cura al centro e ce la faremo grazie 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 davvero Gianna sono informazioni preziosissime che dobbiamo raccogliere e rendere sempre più fruibili a tutti proprio per far crescere quella consapevolezza costruttiva di cui abbiamo assoluto bisogno Fabio Ciconte presidente di terra Fabio ci sei? sì eccomi qui grazie grazie ancora della tua partecipazione a te la parola no grazie a voi per l'invito e grazie per questo momento di riflessione comune basterebbero le parole dell'ultimo intervento di Gian Pablo insomma sono bastano a spiegare il quadro in cui ci ci troviamo io non so se sono in grado di dare un contributo utile a questo a questa riflessione ci provo con un paio di considerazioni intanto provando a rispondere a questa domanda di questa seconda sessione cioè che cosa succederà se non cambiamo atteggiamento e volevo provare a porre anche una questione un po' semantica no? cioè sull'uso del verbo al futuro cioè che cosa succederà invece di chiederci cosa sta succedendo adesso e questo è un po' un qualcosa che a me preoccupa perché in qualche modo quando noi poniamo una domanda al futuro è come se ci stessimo dicendo che è un qualcosa che il cui problema arriverà più in là arriverà più avanti negli anni ed è un diciamo è come se fosse quasi un elemento tranquillizzante nelle nostre vite no? di cui ci auguriamo che o non accadrà perché qualcun altro se ne sarà occupato o se dovesse accadere speriamo che non tocchi a noi e se ci pensate questo questo elemento posto al futuro è esattamente quello che succede quando noi parliamo di cambiamenti climatici cioè noi diciamo negli ultimi 30 anni abbiamo parlato di cambiamenti climatici esclusivamente in una misura posta al futuro cioè un qualcosa che arriverà in futuro questo elemento lo abbiamo visto diciamo da a tutti i livelli cioè diciamo il mondo dell'attivismo politico del sociale privato l'apposto al futuro persino guardate lo straordinario impegno a cui dobbiamo sempre dire grazie ai Fridays for Future hanno posto la questione di cosa succederà fra 11 anni se aumenteranno le temperature le stesse politiche pubbliche quando si parla di cambiamenti climatici guardate la COP26 ultima di Glasgow è sempre uno spostare l'asticella un pochino più avanti quindi il documento al 2050 ora questo diciamo io non sono uno psicanalista non sono uno scienziato della mente ma questo ha nella nostra percezione ci fa spostare il problema più avanti quindi non ci dà il senso dell'emergenza di un problema che è oggi che sta avvenendo oggi è un po' come se noi dicessimo guardate che ci potrebbe essere una pandemia è ben diverso vuol dire che siamo dentro una pandemia perché se sei dentro una pandemia vuol dire che tu ti metti la mascherina ti lavi le mani ti fai il vaccino insomma cose che tutti noi conosciamo drammaticamente molto molto bene ecco sui cambiamenti climatici io temo che benché oggi ci siano fatti dei passi avanti ci sia un'attenzione più positiva più diciamo più grande però siamo ancora in una fase in cui diciamo è tutto proiettato in avanti cioè abbiamo ancora l'idea che i cambiamenti climatici siano qualcosa che arriverà e invece forse dovremmo iniziare a dirci che i cambiamenti climatici ci sono e dobbiamo iniziare a dire come dire a chiamarli per nome in quello che sono per esempio oggi altrimenti in una situazione in cui poi il potere di acquisto delle famiglie è molto basso i problemi diciamo della vita quotidiana sono molto forti una persona normalmente tende a spostare un problema così ampio di cui penso di non avere nessuna capacità di di intervento di spostarlo in avanti o di mettere in qualche cassetto della memoria ora però guardate appunto quindi la prima riflessione su questo cioè sulla semantica dei cambiamenti climatici sul come dovremmo affrontarli con un qualcosa che ci riguarda oggi perché oggi appunto Fabio prima lo diceva perfettamente l'aumento delle temperature è già un fatto basta guardare quello che sta succedendo in Piemonte sul Po basta diciamo io adesso sono a Roma ho fatto tre gocce d'acqua ieri sera mi sembrava una specie di festa era una settimana che non non pioveva io ho le piante del terrazzo che stanno fiorendo che potrebbe apparire una cosa bella ma se noi riportiamo la fioritura per esempio nei campi agricoli guardate questo è un fatto drammatico perché l'anticipo delle fioriture associato al fatto che fra qualche settimana arriverà come sempre sta arrivando una qualche gelata o una qualche tempesta distruggerà parte dei raccolti dei raccolti noi con terra con la mia associazione in questi anni abbiamo affrontato moltissimo questo tema abbiamo raccolto le fatiche del mondo produttivo dell'agricoltura perché pensiamo che un'agricoltura agroecologica possa dare un contributo a questo tipo di ragionamenti possa dare una mano nel cambio di paradigma rispetto alla battaglia sui cambiamenti climatici e siamo in una situazione in cui quando parliamo di eventi meteorologici estremi di nuovo non stiamo parlando di un qualcosa che arriverà è un qualcosa che ogni anno ci colpisce ci colpisce duramente quasi ogni giorno di nuovo se noi lo guardiamo nei campi se noi oggi fate una passeggiata in Emilia Romagna nel Ferrarese per esempio vedrete che ci sono interi campi di pere stradicati e abbandonati perché è una cultura che non sta resistendo a questo dramma se andate in Sicilia vedrete lo stesso con gli aranceli e potete fare un esempio molto lungo quindi siamo in una situazione che è drammatica io qualche mese fa sono stato alle isole Svalbard quindi parliamo per il momento del polo nord perché diciamo sono andato a visitare sostanzialmente la banca del germoplasma dove vengono conservati sostanzialmente dei semi che l'umanità ha più o meno abbandonato per utilizzare sementi più moderne e dove c'è tutta la contraddizione dentro una piccola isoletta cioè da una parte noi abbiamo lì dentro l'uomo che per proteggere se stesso dalla propria stupidità cioè dal quanto ha distrutto la biodiversità ha dovuto mettere in un cavo sotterraneo in mezzo al ghiaccio migliaia e migliaia di semi di tutto il mondo per poi scoprire che diciamo l'artico è una zona del mondo dove i cambiamenti climatici si stanno verificando con maggiore virulenza rispetto ad altre parti del mondo dove la temperatura sta aumentando tra i 3 e i 5 volti in più rispetto al resto del mondo e dove è plasticamente visibile come i ghiacciai si stiano scomparendo con il permafrost si asubbendo danni importanti e via di questo via di questo passo quindi forse la domanda che noi dovremmo anche ogni tanto iniziare a farci lo dico a questa platea che appunto è fatta da persone che da anni si battono no? su tanti fronti è per esempio chiederci cosa avremmo dovuto fare e chiedo che questo anche alla politica l'istituzione lo faccio con un esempio senza voler come dire noi dobbiamo sempre stare attenti a non dover porre diciamo la questione non te l'avevo detto no? perché non deve essere questo ma deve essere un ragionamento che ci porti a dire prendiamo la la crisi energetica di queste di queste settimane no? che è molto che è molto rilevante noi la stiamo analizzando l'abbiamo scritto sul quotidiano domani qualche giorno fa abbiamo di nuovo raccolto le denunce di diverse aziende agricole di produzioni che stanno chiudendo chiudendo e di come poi la grande distribuzione si stia come dire si stia dando il colpo finale a queste aziende continuando con le con le con le offerte promozionali vi dicendo ma questa crisi climatica dovrebbe questa crisi energetica dovrebbe diciamo porre un dibattito pubblico del perché in questi anni non abbiamo investito su un'autosufficienza energetica sul perché diciamo il mondo delle energie rinnovabili si è ancora inchiodato a percentuali che potrebbero essere molto più alte di quelle che sono realmente e oggi ne stiamo pagando le conseguenze e guardate se noi non ci poniamo questa domanda il risultato lo troviamo dentro la rassegna stampa di oggi se voi aprite i giornali di oggi troverete che la risposta l'unica risposta che riesce a dare la politica è una risposta all'immediatezza che vuol dire ricominciamo a estrarre gas cioè aumentiamo l'esportazione delle estrazioni di gas nel nostro paese ricominciamo con le rivelazioni e via di questo passo cioè scusa Fabio ti chiedo minuti sono quasi passati prego scusa mi chiudo in un minuto dicendo appunto che noi dobbiamo invece e porre questa questione sul 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 dibattito per aprire un ragionamento più di di prospettiva perché questo diciamo questo lega tutto insieme chiudo dicendo una cosa che quando tu arrivi a una situazione di questo tipo e quando chiudono le aziende se le aziende non chiudono poi che cosa fanno abbassano parlo di aziende agricole abbassano l'unico costo diciamo comprimibile che è il costo del lavoro e noi lo sapete bene in questi anni lo abbiamo visto con quelle decine di migliaia di donne e uomini braccianti che nei campi vengono sfruttati per accogliere il cibo che facciamo è tutto molto collegato ed è da qui secondo me che dobbiamo avere la forza di ripartire grazie 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 davvero Fabio chiedo scusa anche per i tempi sono questioni grazie per aver riportato anche all'interno di questa nostra riflessione ulteriori elementi di cui dobbiamo essere assolutamente consapevoli c'è un'interconnessione oramai estremamente ampia e grazie anche per questa riflessione sulla sulla contemporaneità dei problemi che richiedono interventi Roberto Savio Roberto Savio eccoci fondatore di Other News prego grazie io vorrei dire che vorrei ripartire da dove il mio amico Gian ha lasciato i problemi globali hanno bisogno di risposte globali ora io vorrei anzitutto dire perché siamo nella crisi in cui siamo c'è trovare ragioni possiamo raggiungere insumere in pochi minuti ricorderò a tutti che l'ordine internazionale sulla quale ci basiamo è nato dopo la seconda guerra mondiale sulla volontà dei paesi vincitori a cui poi si sono giunti tutti gli altri di evitare una seconda guerra una nuova guerra mondiale questo ha funzionato al punto tale che le Nazioni Unite hanno approvato all'unanimità quindi anche lo voto dei paesi ricchi il nuovo ordine economico internazionale con cui tutti i paesi si impegnavano a collaborare per creare una divisione e ridistribuzione del benessere ora nel 1981 io ero al summit di Chancun dove a quel tempo i 25 capi di Stato più importanti si incontrarono proprio per continuare questo discorso di cooperazione e dove arrivò Reagan che era stato appena eletto il quale disse no noi Stati Uniti non intendiamo proseguire sul cammino di una devoluzia mondiale perché non valiamo un voto quanto l'Ixor Time e quindi noi avremo dei cammini per il nostro voto bilaterale basati sugli interessi americani a quel punto tutto l'accordo internazionale cominciò a sgrettolare fino a che nell'89 91 arrivarono delle cose molto precise che sono quelle che ci partiamo dietro oggi la prima fu che ci fu quello che si chiamò il consenso di Washington di cui non abbiamo tempo di parlare ma diciamo solamente fu un accordo fra il sistema monetario dell'epoca e il tesoro americano in cui si rivedeva il criterio dell'economia e della relazione con la società tutto ciò che era produttivo valeva tutto ciò che non era produttivo non aveva valore quindi tutto ciò che era sociale e non era produttivo divenne un elemento meno importante di prima a questo si aggiunge la caduta dell'Unione Sovietica la fine della minaccia del socialismo e della competizione con il capitalismo e venne fuori il tipo di globalizzazione nella quale siamo adesso che è una globalizzazione basata sul mercato cioè sulla competizione cioè sul successo cioè su valori individuali in poche parole si potrebbe dire che è una globalizzazione è basata sulla sul danaro sul bisogno di diventare ricchi sul bisogno di avere successo e quindi dal 1989 al 2009 noi abbiamo avuto venti anni di questa cultura venti anni in cui abbiamo insegnato ai giovani a tutti che l'unico elemento di successo era misurabile quindi aveva un valore e se questo valore non corrispondeva a un successo e quindi era misurabile che sono a dire di fatto non era un elemento su quale giudicare nulla ora questi venti anni di desiderio di racchezza ci portano al 2009 dove viene la grande crisi mondiale del sistema finanziario ricordo che nel 2009 sono stati spesi 25.000 dollari per persona del mondo per salvare il sistema finanziario pensate se questi 25.000 dollari invece di andare al banco fossero stati distribuiti a tutti i cittadini della terra che ripresa ci sarebbe stata economica quanto sarebbero ripartiti i consumi e le produzioni d'altra parte in Italia non tanto tempo fa abbiamo tirato fuori da nulla 30 miliardi per salvare quattro banche nello stesso anno gli incentivi per i giorni nel bilancio dell'ostanza erano 2 miliardi ora dopo questi 20 anni prima di 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 ricchezza cominciamo 20 anni di paura dal 2009 e paura vengono fuori perché si scopre che il futuro non è sicuro c'è il cambio climatico cominciano a nascere partiti di estrema destra prima del 2009 solo in un paese la Francia con le peccia era un partito di estrema destra da lì nascono partiti di destra in tutti i paesi in Europa e poi c'è il terrorismo il giadismo e il fine di quello che io chiamo il sogno americano che lavorando duro tutti potevamo cambiare la nostra vita si scopre che ci sono delle ingiustizie strutturali alcuni possono partire altri non ce la fanno a partire e con questa cultura di una società basata sul mercato e non sull'uomo cambia il sistema di vedere la vita allora adesso noi siamo arrivati al 2022 quindi siamo quasi altri 20 anni gli storici dicono che 20 anni di non mi ricordo come si chiamano in italiano di di grid di volontà di ricchezza e la paura volontà di ricchezza e paura sono quelli che sono i motori più importanti della storia quindi noi abbiamo avuto 20 anni di grid e poi adesso abbiamo 20 anni di paura quali sono i bilanci che possiamo fare per il futuro il primo è chiaro che il sistema che abbiamo non regge le sfide di cui abbiamo bisogno la finanza è andata fuori controllo la politica è in declino ci sono tutta una serie di fattori per cui non abbiamo tempo però diciamo che è chiaro a tutti oramai che il sistema non è in grado di reggere le sfide che ha siamo passati da un mondo multilaterale cioè un mondo basato sulla cooperazione fra tanti a un mondo multipolare c'è una serie di piccoli poli o grandi poli tutti basati sulla competizione e tutti basati sul successo della lotta in questi giorni stiamo vedendo il caso della Crimea con un caso pragmatico a ciò che porta a questo tipo di cultura chiedo scusa Roberto un minuto dobbiamo grazie tenendo presente che adesso noi sappiamo che il 2024 è una stampa allora il mio tesi è che avremo dal 2024 al 2028 quattro anni molto difficile cioè molto complesso che questi quattro anni ci sarà una reazione e un allenamento internazionale e noi dobbiamo lavorare questa mia conclusione perché durante questi quattro anni facciamo una battaglia per rimettere i valori di cui parlava già un fa della strage dei valori dei valori che vanno al di là del mercato del successo della competizione dei valori di solidarietà di cooperazione e di pace grazie 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 davvero Roberto grazie ed ora diamo la parola al segretario generale della commissione nazionale italiana dell'UNESCO Enrico Vicenti grazie buongiorno innanzitutto un ringraziamento alle persone che hanno organizzato questo evento per aver pensato alla commissione per avermi invitato devo dire quando ho letto prima il vostro documento ma poi quando mi sono chiesto perché dobbiamo ricominciare a prendere dobbiamo ricominciare a prenderci cura del mondo la risposta immediata che mi è venuta è perché viviamo in una crisi ambientale senza precedenti che cosa ci succederà se non cambiamo atteggiamento in maniera conseguenziale mi è venuto di pensare a quello che dicono molti studiosi cioè il rischio di una sesta estinzione di massa che evidentemente suona in maniera apocalittica e che però secondo me è una indicazione molto importante perché in un certo senso sfonda quello che è in profondità il tetto della storia ci spinge a riflettere diciamo in una dimensione geologica che ci rimanda per l'appunto all'epoca in cui in realtà l'homo sapiens non frequentava ancora e non camminava per il pianeta e questo ci rimanda per l'appunto a una dimensione di ere geologiche lo abbiamo detto anche in precedenza che ci fa capire che l'essere umano è diventato un agente geologico e quindi grazie alla capacità tecnico-scientifica che la specie umana ha acquisito c'è un potere di influenzare la vita diciamo del pianeta e diciamo quindi la dimensione biotica ma anche la dimensione abiotica l'abbiamo vista molto bene nell'intervento di Gabriella Salviulo per cui rimanda a una responsabilità diciamo morale molto 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 importante e secondo me mi fa piacere che questi temi sono emersi almeno in quattro interventi prima del mio però io vorrei aggiungere una cosa che riflettere sulla necessità di mettere al centro le persone ovviamente nell'ottica fondamentale del rispetto dei diritti umani non può più essere fatto a prescindere da questa dimensione ambientale cioè tutto va ricondotto all'interno di questa dimensione e secondo me questa è la grande narrazione Enrico se ci senti Enrico Enrico non so se ci senti no non ci sente no perché non ti sentiamo Enrico non ci sente proprio chiedi di attivare audio un po' Enrico credo sta facendo un ottimo intervento ma eh no ma non 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 segue le indicazioni non ti sentiamo più allora io direi ecco qualcuno la manina è arrivata vediamo se io direi che ripristiniamo poi il collegamento con Enrico Vicenti io direi che possiamo nel frattempo chiamare Manuel Mannonelles ci sei oh carissimo mi fa piacere vederti quindi Manuel Mannonelles è un carissimo amico col quale ho percorso molte strade in comune insomma insieme a Federico Maior che salutiamo e attualmente Manuel è direttore degli studi contemporanei del governo catalano di Barcellona e da lì si è connesso prego Manuel salve buongiorno prima di tutto un saluto agli amici del centro dei diritti umani qui Antonio Papisca di Padova Marco Mascia e tutti e anche un saluto a te Flavio un amico da tempo fa quando stavo preparando tutto questo ho ricordato la prima volta che sono andato alla marcia della pace per indicazioni del professore Papisca del caro Antonio è stato nel momento della guerra di Kosovo quindi un tempo fa ma un saluto per queste capacità di mobilizzazione che continua ad avere la tavola della pace anche il centro dei diritti umani un saluto anche a Roberto che è ovvio che non si trova a Roma ma da qualche parte del mondo e a Gianni a tutti allora come non abbiamo tanto di tempo io volevo fare un piccolo contributo sulla questione questa perché dobbiamo ricominciare a prenderci cura del mondo per tante questioni ma per me è molto chiaro c'è una cosa che si chiama i punti di non ritorno il punto di non ritorno che si trova nell'ambito climatico ma anche negli altri ambiti e il problema è che noi abbiamo cominciato a passare questi punti di non ritorno e traspassare e tanti anni che abbiamo parlato dobbiamo avere cura sulla questione climatica perché arriverà un punto che ci saranno questi punti di non ritorno il problema è che li abbiamo già passati non tutti ma una parte di questi quindi è per questo che abbiamo siamo in un processo di traspassare i punti di non ritorno che siamo entrati in una situazione di emergenza climatica non per dire emergenza perché sono più forte ma perché è vero perché è scientifico che siamo in una situazione di emergenza perché nell'ambito della crisi climatica abbiamo andato troppo di là e cominciamo a trovare situazioni che si anche cominciamo a reazionare Marco ma non se si scusa prego prego Manuel quindi questo è il problema il problema è che nell'ambito climatico abbiamo andato in una situazione di emergenza perché abbiamo andato più di là ma non solamente nell'ambito climatico siamo in una situazione di emergenza climatica ma siamo in una situazione di emergenza nell'ambito della democrazia e questo Roberto ha parlato molto su questo tema e anche io utilizzerò qualche data che ho preso di un articolo suo la situazione negli Stati Uniti io ho paura di pensare che forse siamo andati più di là di un punto di non ritorno perché quello che è accaduto con Trump e che ancora accade quella polarizzazione in cui si trova ma infatti io pensavo io sai cosa pensavo che tu stessi parlando la modernità quindi nel caso della democrazia nel caso degli Stati Uniti siamo in una situazione di emergenza democratico io non sono sicuro che potremmo recuperare la situazione che avevamo e gli Stati Uniti hanno un punto di referenza nell'ambito globale l'altro giorno come diceva leggeva un articolo su Other News e qualcuno parlava di queste referenze nell'anno 1960 il 8% di americani del partito democratico non volevano che i suoi figli sposassero una persona dell'altro partito del repubblicano e il 12% di americani che si declaravano del partito repubblicano non volevano che i suoi figli sposassero qualcuno dell'altro partito oggi nel 2020 quindi due anni fa secondo un research che ha fatto più è il 88% di democratici americani che non volevano i suoi figli di sposare a un membro dell'altro partito è un 93% dei repubblicani che non vogliono i suoi figli sposare a una persona dell'altro partito quindi questa polarizzazione è una società che sta a punto di staccarsi in due pezzi e con la situazione attuale nei Stati Uniti il futuro della democrazia in uno dei paesi democratici più importanti del mondo non è chiaro non è chiaro cosa accaderà nel prossimo futuro quindi è una situazione di emergenza climatica una situazione di emergenza democratica ma non solamente negli Stati Uniti qui in Europa abbiamo tutti questi problemi con l'estrema destra abbiamo quello che cade in Ungheria quello che cade in Polonia quella incapacità delle istituzioni europee di reazionare davanti di questa situazione quindi è una situazione problematica nel senso che abbiamo passato questi punti di non ritorno per non parlare di certi leaderi nel caso di Brasile nel caso di Filippina quindi siamo in situazioni di emergenza climatica siamo in situazioni di emergenza nell'ambito della democrazia siamo in situazioni di emergenza nel senso della pace è chiaro quello che sta accadendo in Ucraina ma non è solamente quello che sta accadendo in Ucraina quello che sta accadendo in questo momento in Ucraina e oggi abbiamo delle notizie cattive perché gli osservatori della OSI hanno lasciato l'Ucraina quindi siamo in una situazione dove le istituzioni internazionali non hanno le capacità di gestire più e sto parlando della OSI quindi l'Organizzazione sicurezza e cooperazione Europa quella che è stata creata precisamente per la fine della guerra fredda quindi questa situazione di emergenza che abbiamo anche nel caso dell'Ucraina ha delle implicazioni in altre parti del mondo che il Taiwan quello che accaderà in Ucraina avrà una direzione diretta in quello che può accadere nel Taiwan diciamo in questioni di mesi o di anni quindi siamo in situazioni di emergenza e questo bisogna continuare la nostra capacità di fare dei diagnostici ma bisogna attuare bisogna entrare nell'ambito dell'azione e per questo è importante parlare della cura del mondo e come ha parlato Flavio di Federico Maior io sempre mi piace ricordare quella cosa che lui dice sempre il problema dei diagnostici perfetti è che è troppo tardi qual è il diagnostico perfetto l'autopsia ma è un po' tardi quindi bisogna essere un po' avere la capacità di fare diagnostici che ci danno l'opportunità di attuare e il problema è che in questo momento nell'ambito climatico nell'ambito della democrazia nell'ambito della pace non è chiaro che possiamo fare tutto quello che sarebbe necessario quindi per finire rapidamente c'è bisogno di azione perché abbiamo passato i punti di non ritorno e come abbiamo passato i punti di non ritorno siamo in situazioni di emergenza e per questo che è più importante anche se come ha detto Gian siamo in una situazione dove il mondo in termini generali è meglio che tanti anni fa ma la situazione di emergenza è là e per questo l'azione è importante e per questo è importante che istituzioni come la Tavola istituzioni come il Centro di Diritti Umani hanno chiara questa idea di fomentare l'azione per riprendere l'accordo del mondo grazie grazie davvero grazie Emanuele grazie per questo collegamento restiamo in contatto e cerchiamo di capire appunto che cosa possiamo fare ringrazio anche Enrico Vicenti che ha insomma preso atto delle difficoltà che ci sono state e ha rinunciato a proseguire il suo il suo intervento noi chiudiamo qui la sessione della nostra mattinata e direi che ci diamo appuntamento tra un'ora alle quattordici e quarantacinque allora grazie davvero ancora a tutte e a tutti che siete rimasti anche in collegamento da casa dei vostri luoghi di lavoro e buon pranzo e arrivederci più tardi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti